La nostra volontà con questo bilancio è soprattutto quella di difendere e mantenere tutti i servizi utili e necessari ai cittadini e alla collettività, senza ulteriori sforzi da parte loro. Tanto quasi tutto è stato evidenziato molto bene ieri puntuale dell'assessore al bilancio Virginia Montaglio. Io evidenzio e mi esprimo positivamente su alcuni punti importanti e scelte previste in questo bilancio. Il più significativo è un taglio e rispagno di circa 1.400.000 euro derivante dalla revisione della spesa di gestione della macchina comunale e questa è una scelta strutturale che lo vedremo anche negli altri anni. E la riduzione della quota di tutti i capitoli di spese e i loro relativi contratti è a fatto. L'altro punto importantissimo fondamentale per finanziare gli investimenti è il piano d'azione per l'energia sostenibile al fine di ottenere una maggiore efficacia ed efficienza. Di questo credo ne parlerà al collega Tremolada per un minor consumo, pertanto una minore spesa e l'alienazione di una minima parte del patrimonio comunale, si parta di 50-60 immobili, su più di un migliaio posseduti dal Comune. Oserei dire più o meno il 5% degli immobili, come appunto ieri nella relazione diceva l'assessore Notram. Questa scelta secondo me significa anche una visione forte di politica sociale, avere una visione intelligente, avere comunque idee per rispondere alla stessa emergenza a case. Questa scelta ha una duplice direzione e funzione. Vendere alcune case per investire nelle stesse case, pertanto dismissione di pezzi di patrimonio per tornare ancora a patrimonio rivalutandolo, andando incontro a persone meno fortunate che necessitano di un tetto per vivere la propria famiglia e la propria vita, in case che con questa scelta si andranno, appunto, come dicevo prima, a valorizzare e nello stesso tempo a rendersi più dignitose. Con questa scelta, insomma, possiamo rispondere in buona sostanza ancora una volta all'emergenza a case, grazie appunto alle stesse case. È vero, abbiamo anche fatto scelte per qualcuno impopolari, come l'applicazione dell'imposta municipale unica cosiddetta IMU. Io ancora oggi sono convinto che questa scelta sia stata giusta e opportuna indispensabile. Altri comuni hanno fatto scelte diverse, presentando il suo tempo in consiglio per tanti cittadini, approvando IMU a costo zero. Gli stessi comuni oggi sono costretti a rivedere quella decisione, pertanto da questo punto di vista noi siamo stati, diciamo, coerenti. Altra decisione positiva è il calcolo della tasse di rifiuti cosiddetta Tari. Anche per questo il governo di questa città ha fatto scelte politiche di applicazione della stessa, favorendo soprattutto le famiglie. Con il nuovo calcolo, 70-75 persone per cento delle stesse pagheranno meno, mentre pagheranno di più di uffici tipo banche. Stessa attenzione è stata riservata ai tanti esercizi commerciali, tranne pochissimi, costretti a pagare un pochino di più. Concludo affermando che abbiamo sostanzialmente, come giusto che sia, segnato un solco teso al risanamento e alla stabilità, rispondendo comunque e come sempre ai bisogni e alle necessità di tutti i cittadini. Con questo bilancio preventivo il nostro sindaco, la nostra giunta, la maggioranza e tutti coloro che voteranno a favore possono dirti serena e in sintonia con la propria coscienza, come lo sono anch'io. Grazie. Grazie al consigliere Torrago, ha chiesto la parola e il consigliere Rivolte, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Cercherò di contenere il mio intervento. Io credo che questa sera dovremmo assumere tutti un impegno, che è quello di concludere entro mezzanotte. Lo dico con molta schiettezza, credo che l'incidente di ieri sera rispetto al fatto che non si è svolto il dibattito debba spingerci questa sera a contenere i tempi e a chiudere entro mezzanotte, perché sarebbe un po' paradossale che dopo una convocazione come quella di ieri sera, questa sera si sforasse oltre la mezzanotte e si andasse sugli straordinari. Quindi cercherò di essere schematico e chiedo a tutti i consiglieri di tutte le parti politiche presenti in questo consiglio di attenersi alla brevità o comunque di ridurre i tempi. Per questa ragione ho deciso di intervenire per primo, non per dire questa cosa, ma proprio per concentrarmi sugli aspetti principali del bilancio. Tanto più che noi svolgiamo una discussione quest'oggi sul bilancio a settembre, tutti quanti abbiamo evidenziato il paradosso, è un paradosso che coinvolge molte amministrazioni comunali, molte di quelle che hanno scelto di sperimentare le nuove forme di bilancio, ma anche non solo, e soprattutto è un paradosso che sta contraddistinguendo un sacco di questioni che riguardano questo Paese, chi amministra la cosa pubblica o pubblica privata sa in quanti casi oramai, ieri mi sono ritrovato di fronte a una vicenda personale per cui una banca che mi ha chiesto l'unico del 2013 per rivedere i fidi come li fanno normalmente le banche e mi è stato risposto dal mio commercialista che oramai l'unico si consegna a fine del mese di ottobre. Voi capite che anche semplicemente questa cosa per cui le dichiarazioni di regno che slittano, tutto passa, tutto non ha più una coincidenza con i tempi, è il segno di tempi che invece a mio parere vanno modificati e quindi credo che sia giusto aver ribadito nella relazione ieri da parte dell'assessore l'impegno perché l'anno prossimo questo non avvenga, anche perché il mutare dell'origine delle risorse per gli enti locali in una certa misura ci svincola anche dai trasferimenti statali. Può piacere o non piacere il dato sull'autonomia finanziaria? Io credo che sarebbe un dato positivo se poi da parte del governo ci si attenesse a non incrementare l'imposizione finanziaria statale e sempre più trasferire ai comuni non solo la possibilità di esigere contribuzione ma anche di essere i titolari dell'unica contribuzione fiscale o comunque della parte più sostanziosa. Se in realtà invece si riduce il fatto che sia i comuni possono alzare le proprie aliquote e sia lo Stato, ecco questa autonomia finanziaria non è quella di cui il Paese ha bisogno. Ma credo che da questo punto di vista questa autonomia finanziaria è così oramai alta perché credo che arrivi a un livello dell'80-90% ci dice che in un quadro stabile governativo che non modifica le tasse, che non modifica altre scelte, spetta a noi decidere come e quali sono le risorse su cui contare nella costruzione di un bilancio. E quindi magari poi ragionare sulle varianti di bilancio in maniera molto più laica e più libera di quanto lo si è fatto fino adesso, non noi o altri, tutti insieme, tutti i comuni hanno sempre scelto le variazioni di bilancio per questioni molto ridotte, ma credo che l'impegno debba essere al primi mesi dell'anno prossimo di arrivare al bilancio preventivo e poi casomai ragionare in termini di variazioni di bilancio. L'autonomia finanziaria rafforza un rapporto tra i cittadini e i servizi che i cittadini ottengono e questo deve spingere tutti, ma chi governa e quindi la nostra parte in maniera più responsabile, a un rapporto stretto tra ciò che si spende e ciò che si dà e a un continuo controllo rispetto a queste cose. E questo è, da questo punto di vista, credo anche la scelta che all'origine stava nel momento in cui i comuni chiedevano maggiore federalismo fiscale e maggiore autonomia finanziaria. Poi sicuramente in questi anni si sono fatti grandi pasticci, però nella sostanza il quadro è cambiato e noi con questo quadro dobbiamo confrontarci. E quindi credo che da lì dobbiamo partire. Tanto è più che noi abbiamo, se vogliamo, forse paradossalmente votato rispetto alla Tasi, cioè al maggior contributo che abbiamo chiesto dei cittadini per primi e siamo nel gruppo di testa quando abbiamo deciso la Tasi e siamo in un gruppo, come dire, relativamente ultimo nella misura in cui dobbiamo decidere e votare il bilancio preventivo. Forse questo evita che poi si debba invece ricorrere a varianti o variazioni repentine negli ultimi mesi del bilancio ci ha evitato questa cosa, così come invece avviene in altri comuni. Diciamo che un'azienda privata non farebbe così, ma un'azienda privata non si affida alle decisioni di un governo rispetto all'arrivazione di risorse, rispetto alla possibilità di incidere e di decidere su quale risorse un comune può autonomamente contare. Voglio da questo punto di vista ripercorrere proprio velocemente per capitoli. Credo che sia importante l'impegno rispetto all'amorosità. È un fatto etico una questione importante e credo che su questa cosa la scelta di affidarsi, almeno in via sperimentale, a società esterne al comune sia una scelta sensata. Va nella direzione in cui molto spesso ci siamo detti in questi anni che il governo di un comune dovrebbe decidere fare scelte, dare indicazioni e poi possibilmente esternalizzarle rispetto a certe funzioni che non ha senso che rimangano internamente, soprattutto in un quadro di risorse, di blocco delle assunzioni e di competenze che molto spesso mancano. Tante più che sono società che una volta scelte con i criteri che ci siamo detti ieri sera, che ha detto ieri sera l'assessore, hanno una competenza specifica rispetto a quel ruolo. Credo che dobbiamo comunque tener conto, discutendo di questo bilancio, di un quadro generale molto pesante. Oggi i giornali parlano della Tasi e parlano di un 70% dei comuni in cui i cittadini pagano più di più rispetto alle imposte precedenti, ma nei giorni passati ci hanno raccontato di un continuo aumento della disoccupazione, di un PIL ancora in calo e in questo quadro va visto lo sviluppo economico della nostra città e quello che noi possiamo e crediamo di dover fare. Personalmente io non condivido le scelte di continuare a rispettare il patto di stabilità. Credo che sia da questo punto di vista una follia perché da quando le regole sono diventate più stringenti per i comuni e per lo Stato anziché migliorare il rapporto tra il deficit pubblico, tra il deficit, il bilancio dello Stato è assolutamente si è abitato su se stesso e quindi da questo punto di vista il governo, ma l'Europa, avrebbe la necessità il dovere di fare scelte diverse, ma rimane il fatto che noi con il patto di stabilità e con le regole e con le norme ci dobbiamo confrontare e in base a quelle dobbiamo decidere. Rispetto alla dismissione degli appartamenti e alla necessità di recuperare risorse, credo che sia un atto doveroso e un atto utile, soprattutto in un quadro di una grande presenza di case comunali, che però hanno un indice di rotazione molto basso e che quindi sono un bene congelato non capace di essere dinamico e di liberare risorse, ma semplicemente di essere un impegno finanziario e economico per la città congelato e assolutamente poco appunto sinergico, poco dinamico. Da questo punto di vista credo che le polemiche che sono state fatte da alcuni sindacati nei confronti di questa scelta siano stati assolutamente fuori tono e fuori dalla storia della tradizione di una città che invece ha investito molto nel patrimonio pubblico e nelle politiche abitative. Chiudo dicendo un paio di cose. Credo che l'epoca che noi stiamo vivendo e in cui ci tocca governare sia un'epoca profondamente complessa e difficile. Ce lo diciamo da anni e forse da un certo punto di vista siamo arrivati tutti insieme a quello che si chiama fine corsa. E che questo debba spoingerci a fare scelte importanti e decisive. Che non si possa più dire che alcune cose non si possono fare e sono troppo complesse e complicate. Non lo può dire la politica, non lo può dire chi lavora in un comune, non lo può dire chi si occupa di dirigere semplicemente un'azienda. È il tempo di scelte complicate, difficili e coraggiose. E credo che da questo punto di vista il ridurre la spesa corrente del nostro comune in maniera netta e decisiva sia stata la scelta giusta e la scelta che si doveva fare. Scegliendo di salvaguardare che questo è il compito della politica alcune cose. La gestione dei servizi, di investire nei confronti della disabilità di chi si trova in difficoltà in questa città. Ma contemporaneamente bisogna avere consapevolezza che molte altre scelte, anche coraggiose, vanno praticate nel futuro. Credo che debba essere al più presto la discussione che noi dovremo fare in questo Consiglio nel momento in cui andremo a discutere delle linee programmatiche per il prossimo bilancio. Voglio chiudere semplicemente dicendo che l'esperienza che è stata citata anche dall'assessore dei lavoratori socialmente utili è un segno importante di una città che comunque in tutto a questa evoluzione, in questo cambio di rotta, di situazione, ha scelto comunque di continuare a considerare chi si trova in difficoltà. E corrisponde a una serie di scelte che noi abbiamo fatto in questi anni, che sono dall'ISE istantaneo, appunto, alle scelte sulla disabilità o altre scelte. Vedete, capita a tutti quanti noi, credo, di confrontarsi con persone che alla soglia dei 45-50 anni hanno perso il lavoro. Quello che noi andiamo a fare sicuramente è una parte minima, ma segna che non ci si dimentica delle difficoltà e per chi vive la difficoltà significa anche avere la consapevolezza che non si è responsabili della difficoltà in cui ci si è trovati. Perché il dramma vero di chi perde il lavoro o di chi è in difficoltà in questo momento, in un momento in cui le reti sociali e quelle a cui questa città magari più di altra era abituata, di forze sindacali, di forze aggregative, di forze dell'associazionismo, la sensazione di queste persone molto spesso è di essere per primi responsabili della situazione in cui ci si è trovati. E questo non è così. E quindi il fatto che un'amministrazione comunale decida di rivolgere lo sguardo nei confronti di chi in quel momento si trova è un gesto di attenzione nei confronti di chi poi quella sperimentazione la farà, la svolgerà, ma anche il gesto di una comunità che riconosce che il problema c'è e che non è originato da coloro che nel problema si trovano. Grazie. Grazie consigliere Rivolta. Prima di dare la parola a consigliere Pietro, il consigliere Lamiranda ha comunicato la sua assenza per motivi di salute e quindi è giustificato. Prego consigliere Rivolta Pietro. Grazie Presidente. Io sarò brevissi e cercherò di portare via poco tempo per lasciare anche più spazio a consiglieri e consigliere sicuramente più competenti di me in fatto di finanza, di bilanci e con maggiore esperienza. Io ho guardato la relazione dell'assessore Montrasio come una cittadina media di questa città discutendone anche con cittadini e cittadine della città, le persone con cui sono in relazione. È ovvio che la prima domanda che sorge è ma come mai si discute un bilancio a settembre? Credo che su questo le risposte siano presenti nella prima parte della relazione, sono state ribadite dagli altri due interventi e quindi non entro nel merito. Sicuramente mi tranquillizza il fatto che si stia attrezzando un calendario e una programmazione per il bilancio del 2015 in modo da arrivare in tempi diversi. Come mi rassicura il fatto che avendo due mesi fa la Giunta ha votato questo bilancio, questo bilancio è potuto passare nelle commissioni deputate alla sua discussione, al suo approfondimento e soprattutto nella relazione con le figure che sono in contatto con l'amministrazione, dai sindacati ai lavoratori, ai lavoratori stessi, agli imprenditori, alle associazioni e così via. Sicuramente come cittadine e cittadini sono contenti e io sono soddisfatta della ricerca e attuazione della riduzione della spesa attraverso il blocco degli straordinari, il sostanziale blocco delle assunzioni che può essere una cosa non troppo carina in un momento in cui c'è bisogno di lavoro ma che rassicura sul fatto che un comune non diventi il posto dove vengono assunte persone e dove si spende di più. Sostanzialmente la riduzione del numero di dirigenti sicuramente e il dimezzamento del loro fondo di risultato e anche la razionalizzazione in atto del contenimento delle spese che ha coinvolto i vari settori dell'amministrazione. Particolarmente interesse e piacere ovviamente mi fa la parte in cui si punta l'attenzione sui bisogni e sul supporto alle fasce più deboli della nostra città. Mi riferisco alla scelta fatta per il trasporto dei disabili all'aumento delle ore di sostegno nelle scuole, di accompagnamento di sostegno nelle scuole, alla scelta di destinare alle famiglie con disabili e non autosufficienti in casa i 100.000 euro derivati dall'applicazione della tasse alle cooperative a proprietà indivisa, alla sperimentazione di interventi educativi territoriali a favore dei minori con disabilità che sono residenti nella nostra città. In particolar modo, visto che ho seguito un po' questa vicenda in questi mesi estivi, all'emendamento che verrà poi illustrato, credo, domani, finalizzato a dare a tutti i ragazzi disabili la possibilità di continuare il loro percorso sociale ed educativo anche alla fine del percorso scolastico. Credo che proprio questa vicenda a me sembra un esempio di buona politica basata su due capacità. La capacità sicuramente dei cittadini e delle famiglie di organizzarsi e agire per porre in evidenza i loro bisogni, un bisogno e anche i loro diritti e la capacità dell'amministrazione pur tra mille difficoltà di ascolto e di risposta alle richieste. Detto tutto questo, anch'io sono come cittadina sestese, cittadina che paga quello che deve pagare, eccetera, che cerca di essere alla pari con ciò che si deve all'amministrazione e così via, interessata al discorso della lotta alla morosità. Credo che sia un momento in cui, io credo che la morosità, parlo della morosità colpevole, non incolpevole, non di chi di colpo si trova in difficoltà e non può onorare i propri debiti o ciò che deve pagare. Parlo della morosità dove non c'è onore, che è un po' così, un vezzo, qualcuno dice tipicamente italiano, io sono furbo, mi scusi Presidente, sono figo perché non pago e gli altri pagano, invece io ce la faccio a svicolare. Anche perché in un momento in cui se voglio coprirmi le spalle mi scopro i piedi, allora mi tiro la coperta per scaldarmi i piedi, mi scopro un braccio, credo che non si possa più sopportare chi trova la possibilità di non pagare l'affitto delle case popolari, di non pagare le utenze, di farsi pagare una serie di altre cose. Io personalmente voglio seguire poi questo lavoro, interessarmi perché credo che sia importante, anche perché chi fa il furbo e non paga fa pagare a me e a tutti i cittadini e alle cittadini oneste è la sua parte. E credo che andare su questa linea con durezza sia una questione di buona politica, di democrazia. Ringrazio sicuramente l'assessore Montrasio per il lavoro che ha fatto e perché ha permesso anche a me, che sono così ignorante in queste cose, di capire, di potermi muovere in queste cose difficili. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra, ha chiesto la parola la consigliera Pennanzi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Farò anche io un breve intervento che non abbraccia il bilancio nella sua complessità e interezza, ma si concentra su una parte che abbiamo visto in commissione, che è quella legata al piano degli investimenti, il cosiddetto piano triennale delle opere. Non vi faccio ovviamente più una relazione, riporto alcuni elementi che secondo me emergono da questo piano e un po' anche dalla storicità che abbiamo visto negli anni e che tra l'altro è stata anche ricostruita in parte in commissione dall'assessore piano, rispetto appunto a cosa sta succedendo, cosa è successo, cosa sta succedendo sul tema degli investimenti. Gli investimenti hanno sofferto tantissimo delle difficoltà di bilancio, gli investimenti sono stati molto sacrificati, negli anni si vede l'andamento decrescente delle risorse disponibili per gli investimenti, laddove anche la parte più minima, che è quella manutentiva, cioè manutenere, che non è l'investimento per modificare, migliore, ma proprio la manutenzione ha fatto fatica a reggere, vuol dire i buchi nelle strade, vuol dire lo sfaccio del verde, quindi stiamo parlando di questo tipo di investimenti. E se tu togli un servizio immediatamente lo senti, gli investimenti forse il primo anno te ne accorgi in parte, ma si accumulano e si aggravano e diventa un problema vero e proprio per la vita di una città, per il suo decoro e per i comportamenti, perché indubbiamente una città dove gli investimenti faticano a mantenere livelli minimi e dare i miglioramenti qualitativi può incentivare anche i comportamenti dei cittadini, perché lo sappiamo come succede. E quindi, diciamo, in un andamento di questo tipo, il piano triennale che ci è stato presentato ha dentro degli elementi su cui vorrei soffermarmi, che secondo me sono importanti, per quanto ovviamente va preso, come ci veniva giustamente detto anche dall'assessore, per un piano che abbiamo approvato a ottobre 2013, perché la legge ti dice che devi approvarlo entro il 31 ottobre. Quindi tenete presente che, stiamo approvando il bilancio adesso, il piano è già datato, il piano degli investimenti è già datato e molte cose sono cambiate e quindi necessariamente. Però ci sono alcune cose, se non vi riporto l'elenco che avete, che ci è stato presentato, alcune cose importanti. Innanzitutto questa volontà di riportare ai valori minimi, indispensabili, la parte di manutenzione. Non è strategia, ma è civiltà di base del decoro di una città e quindi l'impegno sulla manutenzione dell'asfalto, sulla manutenzione del verde, a trovare quelle risorse che ci permettano appunto di vivere in una città, come dicevo, che poi con la sua qualità determina anche certi comportamenti e certi circoli che possono essere virtuosi o viziosi, a seconda di come gli si presta. L'altra cosa importante è quella un po' più strategica che si legge dentro questo piano e dentro, diciamo più in generale, il tema dei cosiddetti le spese in conto capitale degli investimenti. Beh, uno veniva già citato, questa scelta politica forte sul tema delle case comunali, che al di là ovviamente di una scelta che ha degli impatti da un punto di vista proprio anche di bilancio economico, è anche il segnale di voler sbloccare certe situazioni. Questo è un Paese con situazioni bloccate, dove chi ha acquisito dei diritti li mantiene, ma si fa, e ben venga per carità, ma si fa fatica a garantire quei diritti minimi a chi questi diritti non li ha. Il tema della casa è un tema tipico in questo senso. C'è chi probabilmente da tantissimi anni all'inizio aveva bisogno di quelle case, quando è arrivato, quando aveva condizioni di difficoltà, probabilmente adesso la sua condizione economica di famiglia è cambiata e in compenso è pieno di giovani famiglie, giovani coppie, singoli, che invece non riescono, hanno delle grosse difficoltà e non riescono. Quindi sbloccare questo tema, al di là del tema delle manutenzioni, so che da anni ne parliamo, è molto complicato dal punto di vista anche normativo della procedura, però io apprezzo molto, è un segnale, è l'avvio di una scelta, ed è un avvio di una scelta forte di attenzione ai bisogni, a chi ha bisogno, e quindi una scelta secondo me è una scelta di sinistra, di chi ha sempre creduto che nei più deboli, nei più bisognosi bisognasse impegnarsi noi a dare le risposte col nostro ruolo. Quindi questo è un aspetto strategico fondamentale. L'altro è questa attenzione al cosiddetto risparmio energetico, alla sostenibilità, che non sono pezzi da aggiungere, possono diventare corpo centrale di una politica di investimenti e di una politica di bilancio, perché sicuramente questi aspetti, oltre a portare a dei risparmi, hanno poi dentro un valore, un valore di sostenibilità, un valore ambientale, un valore anche che diventa poi rigenerazione economica, perché da molti interventi sulla, per esempio, risparmio energetico, stiamo parlando in commissione di nuovi anche modelli per la raccolta dei rifiuti, percorsi, che ognuno poi deve trovare la sua strada, ogni città deve trovare la sua strada, ma che sono anche dei modi per migliorare sicuramente la sostenibilità, ma anche per risparmiare, perché diventano dei meccanismi dove i comuni che li implementano con le loro modalità, con i loro modelli, trovano anche il modo di risparmiare risorse. Quindi la capacità di investire anche in nuovi modelli più attenti all'ambiente, alla sostenibilità, diventano anche elementi di risparmio e quindi di valore economico, nonché di attivazione di nuovi anche settori e rilanciare nuovi ambiti anche di sviluppo. Il PAES che veniva citato, quindi questo piano, diventa un po' allora l'elemento dove si può mettere un po' tutto a sistema, ci diceva l'assessore piano, ecco quello diventa poi l'ambito dove avremo le linee guida, le strategie poi da seguire, quindi in un contesto che non è più spezzettato, piccolo intervento, soluzione, ma allora in una visione complessiva. Secondo me è molto importante. Ultima cosa, il project financing. Non è la soluzione di tutti i mali, ma sicuramente in alcuni ambiti la collaborazione con soggetti privati che si fanno carico di sviluppare, di recuperare strutture, eccetera, di mettere la disposizione della città come servizio, guadagnandoci dalla gestione ovviamente, questo modello, insomma banalizzando, deve essere un modello verso il quale noi dobbiamo andare a cercare, se per quanto non semplici, partner soluzioni sempre di più, proprio perché è evidente che il vecchio modello non regge più, perché quelle risorse che c'erano prima, che ci permettevano di fare certe cose, negli anni si è visto che non ci sono più. Chiudo con una nota invece sulla parte entrate, se fino ad ora ho ragionato più sugli aspetti investimenti, costi per risparmi. Gli oneri, la tendenza degli oneri si è vista negli anni, non è novità di quest'anno. La crisi, ma anche altri aspetti. D'altra parte gli oneri sono sempre stati un modo di entrata per il Comune, una modalità di entrata per il Comune legata alle costruzioni e quindi in una città densamente costruita come questa, anche a quel tema a cui bisogna porre attenzione è quello del consumo di suolo. Non sono più gli oneri, è evidente, a tenere in piedi la possibilità di investire, eccetera. Allora, anche questo, da necessità virtù, che diventi uno stimolo per trovare delle nuove modalità di costruire sviluppo, investimento, di trovare risorse, uscendo un po' da quel cliché che non è solo di un Comune, ma che spesso veniva sbandierato anche a livello nazionale, per cui laddove vanno le costruzioni va l'economia. Non è più così e probabilmente non sarà più così, ma forse ben venga, perché forse anche quel settore con le riqualificazioni, con l'attenzione al recupero, alla qualità, piuttosto che continuare a costruire il nuovo, anche questa può essere una linea che ci può, dalla difficoltà, indirizzare. Grazie. Grazie. La consigliera Pernasi ha chiesto la parola e il consigliere De Noe. Grazie, Presidente. In quattro anni, una riduzione complessiva di 20 milioni di euro, riduzione dei trasferimenti statali e tagli di parte dei trasferimenti regionali. L'amministrazione ha comprato in questi anni scelte difficili, che hanno richiesto enormi sacrifici per i cittadini. Ed è anche vero, e mi riferisco a Comune di Nitrofi, che chi ha voluto vestire i panni dal salvatore delle tasche dei cittadini si trova ora a fare cassa, mettendo all'asta non 50 appartamenti del demagno, ma beni pubblici molto più grandi e di più grande storia. La riduzione dei trasferimenti da parte dello strato, credo però in tutta onestà che non sia stato un male assoluto. Certo, penalizza con tagli indiscriminati anche i Comuni come il nostro, che ha sempre avuto, come si suol dire, il continuo ordine. Ma credo che ci dia anche l'importante opportunità di riflettere e ripensare al ruolo degli enti locali tutti. I cospicui trasferimenti degli anni passati hanno portato i Comuni a rivestire ruoli che forse, abbiamo capito, non competono a un ente locale. Si sono moltiplicate le aziende partecipate, aziende a volte costruite ad hoc, non sempre ovviamente, che non sono servite per fornire servizi di pregio e a basso costo per i cittadini, ma più che altro a gestire male partite importanti per la gestione del patrimonio pubblico. Consigli di amministrazione a nomina politica, tanto cari a chi crede nel giusto equilibrio, nella pluralità delle idee, che si sono rivelati niente altro che Comuni Cantucci dove sistemare questo o quel personaggio neanche di questo o quel partito, ma di questo o quella corrente. La nostra proposta, signor Sindaco, è zero partecipato. Qui non si entra nel campo del rifiuto della gestione pubblica, ma semplicemente nella presa di coscienza che l'utilizzo di strumenti, che pure hanno fatto crescere, in certi casi, il nostro Paese, non sono più in grado di dare risposte positive nell'amministrare il bene comune. Il bene comune. Questa è una parola che tornerà in questo mio intervento, perché è giusto intendersi bene su questo concetto ed è giusto comunicare bene ai cittadini che cosa si intende per bene comune. Davanti alle difficoltà che i cittadini affrontano ogni giorno, un importante gesto di responsabilità politica, secondo noi consisterebbe intanto nell'abbandonare prese di posizione dettate solo dalle necessità di autoconservazione e fatte solo per perpetuarsi, coltivando ognuno il proprio giardinetto. In questo bilancio, che ha visto una contrazione della spesa corrente, vi è una parte importante relativa alle ricontrattazioni di appalti e convenzioni, che sottolinea la capacità di questa amministrazione di agire ed applicare con solerzia le opportunità che le recenti norme mettono a disposizione. Ogni volta che si parla di bilancio, tengo sempre a sottolineare la capacità che ha avuto questa amministrazione di rispettare il patto di stabilità. Legge iniqua, che non ha certo avvantaggiato i comuni con i conti d'ordine, ma ha solamente tagliato indiscriminatamente le risorse anche ai comuni che hanno ben amministrato. Tengo sempre a sottolineare questo, che non è un particolare, perché le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità porterebbero, ad esempio, a divieti che interessano soprattutto, ma non solo, il personale dell'ente, divieto di aumenti dei fondi di produttività, e il divieto assoluto di assunzione, ma anche e non meno importante, la possibilità di indebitarsi e di investire. Il rispetto del patto di stabilità noi crediamo sia cosa dovuta, una norma malfatta, ma necessariamente da rispettare. Per quanto riguarda il personale, siamo stati tra i primi a sostenere la necessità di contenere le pregnalità dei dirigenti. Dirigenti che svolgono un lavoro prezioso, importante e che siamo sicuri abbiano compreso appieno che non si è trattato di volontà punitiva. Ma è una richiesta, credo responsabilmente accolta, di dimensionare una parte variabile delle retribuzioni, che per l'importanza del ruolo svolto sono normalmente alte e anche molto di più di quella del sindaco stesso. Non posso che complimentarmi con l'aggiunta degli uffici per il difficile lavoro svolto. In questa situazione di insoluta instabilità viene garantito comunque un alto livello dei servizi, riuscendo addirittura ad ampliare l'offerta per il sostegno di coloro i quali sono portatori di disabilità, per loro e per le loro famiglie. Un lavoro che dimostra la capacità, ormai lo possiamo dire, anche di saper raschiare il barile. Credo però, come detto in precedenza, che la situazione impoga è di agire in maniera differente dal passato, in modo da evitare, a furia di raschiare il barile, di sfondarlo. Le azioni che abbiamo in mente, come per il piano partecipate zero, ribalteranno alcuni dei concetti cari a una tradizione che fa parte certo della nostra città, ma che ci sentiamo il dovere fortemente di scuotere. Sesto San Giovanni è il comune dopo Rozzano che vanta il più alto numero di unità di edilizia residenziale pubblica, case comunali, patrimonio del demagno comunale, cioè di tutti i cittadini di Sesto San Giovanni. Oltre ad approvare appieno il piano di dismissioni, inserito in questo bilancio di previsione che riguarda una piccola ma concreta parte di edilizia pubblica, c'è un piano di dismissioni che interessa il 5% del patrimonio complessivo, circa 50 unità su mille. Crediamo che sul tema casa pubblica ci sia da lavorare anche sotto altri aspetti. Come hanno ben sottolineato più volte anche le organizzazioni sindacali, Sesto San Giovanni non si è mai ritratta e ha sempre fatto e bene la sua parte su questo tema. Noi crediamo che sicuramente, prima di costruire nuovi appartamenti, ha senso ragionare sicuramente sul recupero di edifici vuoti, spesso dimenticati anche dagli stessi proprietari, che oltre ad essere uno spreco inutile di spazio, dopo anni di abbandono possono diventare addirittura fonti di pericolo anche per chi decide di preoccuparli, ahimè abusivamente. Il piano di dismissioni tenderà a recuperare risorse, cioè soldi, da reinvestire per la riqualificazione qualitativa delle altre unità immobiliari, oltre che a una riqualificazione energetica degli stessi immobili. Noi crediamo che non basta avere molte case, è bene averne forse in quantità anche più contenuta, ma che garantiscano ai loro assegnatari una permanenza dignitosa. Ebbene inoltre, che nelle case pubbliche ci sia un mix di tipologie di inquilini, che non diventino il luogo, come ho sentito dire più volte, semplicemente dei disagiati. La vendita degli appartamenti quindi potrebbe essere un'ottima opportunità per chi è in grado di comprarli. E anche per la turnazione degli inquilini nelle restanti parti. Favorirebbe così la disomogeneità delle tipologie di inquilino. Credo fermamente nella turnazione. Ricevo dalla comunità l'opportunità di soffrire di un bene. Un bene di primaria importanza qual è la casa. Per un periodo della mia vita nel quale non posso permettermi di perseguire altre strade. I canoni ovviamente saranno decisamente più bassi del privato e saranno parametrati in relazione alla mia situazione economica familiare. Il diritto della casa è garantito dalla Costituzione. Un diritto fondamentale. Gli assegnatari con coscienza però non devono dimenticare che quello è un bene pubblico, cioè comune. Ebbene quindi che quei canoni stabiliti per regge, in base a precisi indici, come già detto, nel rispetto delle proprie possibilità vengano versati. Se non bastano le case, l'unica giustazione, come abbiamo detto secondo alcuni, consisterebbe nel comprare altre. Bene, io credo che prima sia bene verificare se per chi usufruisce di questo bene da diversi anni sussistono ancora le condizioni per rimanerci. Perché la legge regionale in questo non ci aiuta quasi per niente. Perché permette il subentro di altri soggetti, che poi finiscono, la faccio un po' breve, tra virgolette, ad ereditare un bene che in realtà dovrebbe cambiare di assegnatario. Che permette a chi non presenta una dichiarazione di erediti, di rimanere comunque assegnatario a fronte di un più alto canone mensile. A sesto questi sono più o meno qualche decina. Negli anni passati, questo è per dimostrare qual è l'attenzione che hanno posto anche le vecchie amministrazioni nei confronti di questo tema. Negli anni passati, e specificatamente nel 2011, l'amministrazione stipula un protocollo con l'organizzazione dei sindacali che prevede la riduzione del canone per la permanenza negli alloggi di edilizia pubblica, che tra l'altro hanno appena stati aumentati nella regione Lombardia. Questo a fronte della sottoscrizione di un piano di rientro dell'amorosità. Bene, direte voi, saremmo rientrati gradualmente da tutta l'amorosità. A me duole dirlo. Ma in un momento in cui l'amministrazione è continuamente chiamata a tirare la cinghia, sapere che l'amorosità degli inquinini delle case popolari ammontava solo nel 2013 a 2,8 milioni di euro fa veramente rabbia. In molti in questo momento si faranno la stessa domanda che mi sono fatto io. In un periodo come questo si tratterà più o meno di amorosità incolpevole. Cioè mi manca il lavoro in quel preciso momento, non entrano soldi nella mia famiglia e quindi io vorrei pagare, ma sono impossibilitato da farlo. Beh, parlando con chi di queste cose se ne intende, cioè chi ne mastica, chi ci lavora. Non solo da politico, ma da cittadino che si interessa del bene della propria città. Ci scopre che l'amorosità cosiddetta incolpevole si aggira solitamente intorno, cifra generosa, intorno al 3-5%. Eh ma se noi sbagliassimo e attribuissimo a questo fenomeno anche una consistenza maggiore, cioè una consistenza magari del 10-20-30%, vorrebbe dire che solo nel 2013 avremmo avuto circa 2 milioni di euro di insoluti. Una cifra che anche il bilancio di un comune, che anche se a fatica è sempre riuscito a reggere, non può permettersi. Tralascio i dati ad oggi perché ovviamente sono privi del conguaglio, quindi darei una cifra che non è ad oggi veritiera. Però credo che sia bene interrogarsi anche a fronte delle vive proteste che le organizzazioni sindacali hanno inscenato più volte anche in questa aula. Io credo che la battaglia sul diritto alla casa, soprattutto anche per le organizzazioni sindacali, meriti riflessioni un po' più ampie e meno a senso unico. Se la casa è un diritto, pagare il canone è un dovere. E mi aspetterei che fossero proprio loro, i sindacati, prima di invitare tutti a regolare i propri debiti. Perché quando si è nel giusto, quando si segue la legge, allora si può trattare e si può pretendere di essere ascoltati. E poi diamo anche un altro dato perché è vero che a memoria di funzionario a Sesto San Giovanni, per murosità, nessuno è mai stato sfrattato. Oltre a quello che dicevo prima, partecipate zero, io spero che si possa arrivare anche alla murosità zero. Perché questo è un dovere che abbiamo, questa è una cosa giusta, è una cosa giusta che pare in poco tempo si è diventata leitmotiv di molti. Ed è un bene, è un bene che l'abbia ricordato l'assessore nella sua relazione, è bene che l'abbia ricordato anche il Presidente di Commissione nella sua relazione e lo abbiano fatto altri miei colleghi di maggioranza. Chiedo che questa amministrazione abbia affrontato partite molto importanti, molto difficili da affrontare, soprattutto in questi anni. Una cattiva eredità che però è riuscita a gestire e speriamo anche in futuro riesca a portare avanti in maniera positiva. Finisco col fare i complimenti ancora agli uffici perché nell'incertezza del quadro normativo ovviamente muoversi e fare delle scelte così repentine, rivedere i propri calcoli, rivedere le proprie scelte, a volte è molto difficile. Finisco qua il mio intervento dicendo semplicemente che apprezziamo il lavoro ma non ci dobbiamo spaventare per quello che c'è ancora da fare e da fare ce n'è ancora molto. Grazie. Grazie al Consigliere De Noia. Ha chiesto la parola alla Consigliera Iosa. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Nel bilancio di previsione di stasera vediamo l'avvento di questa sperimentazione di contabilità potenziata con il bilancio armonizzato che ha portato molta più chiarezza nella lettura dei numeri e dei dati che trovano un collegamento diretto tra la sezione strategica e la sezione operativa. Diciamo che permette di dare un nome e un cognome, se così si può dire, ai numeri che poi andiamo a leggere nei bilanci. Il 16 aprile 2014 abbiamo fatto Consiglio Comunale sul rendiconto di gestione 2013. In quella sede dicemmo che poco c'era da dire sui numeri. Lo stesso discorso vale oggi, anche perché grazie alle capacità e alla professionalità della dottoressa Orsetti e della dottoressa Fiore dei loro uffici i conti tornano sempre. Lo apprendiamo anche dal parere dell'organo di revisione che ci palesa inoltre come questa sperimentazione del bilancio armonizzato porterà a un abbattimento dell'obiettivo del patto di stabilità di 3.872.000 euro e con tutte le aggiunte di cui parlava ieri sera l'assessore Montrasio siamo arrivati a 1.700.000 euro di saldo obiettivo che direi essere un signor obiettivo contabile. Come dicevamo prima i conti tornano. Quel 16 aprile e successivamente a maggio nella deliberatasi la lista civica dei giovani sestesi fece delle affermazioni precise, sottolineando infatti l'evidenziazione della mancanza di capacità politica e di programmazione che portavano inevitabilmente a rincorrere i problemi e non a gestirli. Diciamo che amministrare significava governare, programmare e il bilancio è programmazione, è reperimento di risorse, è trovare sistemi diversi, efficienti ed efficaci e modificare l'utilizzo delle risorse al fine di risparmiare. Quel 16 aprile votammo a favore del rendiconto di gestione per il suo saldo positivo e per il rispetto del patto di stabilità, ma dicemmo che dovevamo prenderci la briga di rischiare, di guardare più in alto e di progettare con obiettivi tangibili, perché la sola tenuta non sarebbe più bastata. La città, dicemmo, ha bisogno di evolvere e sentendoci forza di governo abbiamo dato al Sindaco e alla Giunta tutta la disponibilità e la collaborazione per il bene della città. Non citiamo questi punti stasera per nostalgia, ma perché è risultato abbastanza demoralizzante da un lato, irritante dall'altro, rendersi conto che nulla è cambiato. Questa sera votiamo il bilancio preventivo che possiamo quasi chiamare consuntivo, visto che i 9-12 dell'anno sono già stati usati. Però quando è stato deciso di applicare la Tasi non ci avete pensato un momento ad aspettare di vedere quale sarebbe stato il risultato del bilancio di previsione per vedere se si potevano tenere le aliquote più basse. È stata messa l'aliquota, ai cittadini è stato chiesto un sacrificio e in questo modo effettivamente i conti tornano. La tanto sperata rivoluzione delle idee che auspicavamo, quella rivoluzione e quel coraggio che ci avevano fatto ben sperare nel modo in cui avete affrontato la disperata situazione delle farmacie comunali, che ci ha fatto votare a favore quando, seguendo le regole che regnano solitamente nella politica, queste regole dicono che non era compito nostro. Tanto più che in casa vostra c'è chi c'era, chi c'è e che non vi ha sostenuto. Ma noi onestamente, passatemi il termine, ce ne siamo strafregati, convinti, come siamo tuttora, che una lista civica o perlomeno la lista civica dei giovani sestesi era, è e resta libera e votammo a favore, convinti che il bene della città viene prima di ogni altra chiacchiera politica. La serietà e la responsabilità erano uno dei punti che ci avevano fatto candidare e che volevamo mantenere con la nostra presenza in quest'Aula. Questo preventivo di bilancio, nella sua assurdità che abbiamo esposto tutti per essere votata oggi, ma anche se l'avessimo votata a luglio non sarebbe cambiato niente. Però c'è da dire una cosa, che nel mondo reale le cose non funzionano così, cioè questo deve essere chiaro. Ci siamo rincuorati ieri sera nel sentire dalla relazione dell'assessore che sembra esserci una presa di coscienza in questo senso. Speriamo che sia reale e che non sia stato solo un riempitivo della relazione. Un'azienda normale, ma io considero il Comune un'azienda, programma di volta in volta e quello che non riesce a fare per X motivi è già ricollocato nel futuro. Anche le aziende hanno grossi problemi economici, legati alle mancanze di entrate, ai ritardi dei pagamenti, alla paura di investire, di non farcela. E allora cosa si fa? Ci si rimbocca le maniche tutti, a partire dai dirigenti, senza distinzioni però, come è stato fatto con quelli delle farmacie, che hanno visto un taglio del premio per tre anni, mentre i dirigenti di questo palazzo del 50%. Un premio, lo dice la parola stessa, si chiama così perché hai raggiunto un obiettivo. Ma quali sono questi obiettivi che vengono fissati? Ci sono settori per cui risulta molto chiaro, come questo del bilancio, ma per altri è abbastanza incomprensibile, anche perché lo stato della città è sotto gli occhi di tutti. Quando un'azienda è in crisi, si fanno i tagli del superfluo, si stabiliscono le priorità, si fanno le stime a ribasso rispetto all'anno prima, ci si inventa, ci si rinnova, si tenta, ma si programma sempre, forse in maniera ancora più rapida. Si chiude il bilancio e con i dati di chiusura si è già contemporaneamente fatto il nuovo programma e poi non si dorme, perché il cervello è in continuo mutamento per cercare di creare qualcosa di nuovo. Il mio professore di economia diceva che le crisi aziendali si possono subire o possono diventare un'occasione per rinascere. Da questo avviene la distinzione di quali sono poi gli imprenditori che ce la fanno e quelli che periscono. Tornando a noi alla discussione di questa sera, nella sezione strategica non c'è traccia di progettualità e di rinascita produttiva. Ora, al di là delle scelte politiche, più che strategiche, sulle quali ci sono pagine e pagine di programmazione, perché in questo siete veramente bravi e non è un modo di dire o una presa in giro, vorrei capire se mi passate il termine che cosa ci mangiamo. Mi spiego meglio. L'assessore Innocenti ha programmato ben cinque pagine sulle politiche di genere. Inciso da donna, devo dire che senza toccare la parte che riguarda la violenza sulle donne, perché se si potesse bisognerebbe implementarla e fare quanto in nostro possesso, mi è sembrato leggendola quasi una guerra santa. Questo obbligo e questa forzatura che in qualche modo ci toglie di valore anziché darcene a noi donne. Noi crediamo che esattamente come gli uomini si dovrebbe avere o si dovrebbe arrivare o si dovrebbe stare in un posto, perché si hanno le competenze e le caratteristiche richieste, non perché qualcuno ha detto che ci devono stare due donne o un uomo o viceversa. Poi sul commercio di vicinato ci sono grafici che dimostrano che Sesto San Giovanni addirittura rispetto a Colonio, Cinisello, Bresso, poi c'è un grafico che evidenzia molto bene come a Sesto San Giovanni a pagina 10 il commercio all'ingrosso e al dettaglio sia uno dei settori principali che interessano la città, uno dei settori principali che interessano la città a cui sono state riservate quattro righe, cinque righe. Le stesse quattro o cinque righe che due anni fa erano nelle linee programmatiche del Sindaco. Allora chiediamo al nuovo Presidente del Tavolo del Commercio, il Consigliere Torraco, di esortare l'assessore Montrasio a togliere dal bilancio i 10.000 euro stanziati perché sono vergognosi. Nella parte strategica del DUP si dice a pagina 4 che ulteriori posti di bilancio allocate fra le entrate correnti sono l'imposta comunale sulle pubblicità e diritto di pubbliche affissioni 1.126.000 euro, tasso occupazione e spazi aereo pubbliche 1.049.000 euro, l'imposta di soggiorno 200.000 euro. Volendo stare sullo scarso e dire che un terzo di questi soldi vengono pagati dai commercianti sono 800.000 euro e noi gli dedichiamo 10.000 euro? Ma diciamo di più, il problema è che anche se ce ne fosse un milione di euro sarebbero sprecati perché a giudicare da queste quattro o cinque righe non esiste un progetto su questo tema. Magari in qualità di nuovo Presidente, Consigliere Torraco potrebbe esortare questa amministrazione a tirare fuori quelle proposte che sono state consegnate e formulate da associazioni dei commercianti come quella di Asso Commercio a costo zero che non si capisce per quale motivo nessuno abbia preso in considerazione. Poi però succede che così a spot escono proposte come quelle di pochi giorni fa formulate dal Consigliere Nossa di pedonalizzare il centro senza un'idea, un'organizzazione, ma solo perché così almeno facciamo parlare un pochino in media. Così a random, creando scompiglio e paura fra coloro che del commercio di vicinato fanno la luce e la vita della città, senza un progetto. Per un attimo onestamente ho pensato di essermi confusa tra il Consigliere Torraco e il Consigliere Nossa, la consulta dello sport del tavolo del commercio. Ci piacerebbe veramente capire come andremo avanti, così come sarebbe veramente interessante capire se il tavolo del commercio lo dobbiamo tenere per i regolamenti e le feste anziché dargli una valenza programmatica, perché se così fosse utilizziamo la competenza del Dottor Riganti e del Dottor Visco Gilardi per altro, visto che non serve la loro professionalità per stabilire luogo, orario e modalità delle feste. Idem per le imprese, il documento strategico dice a pagina 15, consapevoli del fatto che per favorire l'occupazione dei cittadini è fondamentale attivare gli insediamenti produttivi, è necessaria l'elaborazione di strategie che rendano più attrattivo il nostro territorio. È previsto l'avvio di un progetto che coinvolga tutti i settori dell'amministrazione, volta alla valorizzazione della città come luogo di nuovi insediamenti produttivi, dopo due anni. A parte il fatto che mi piacerebbe capire cosa vuol dire questa roba, perché questa roba vuol dire tutto e non vuol dire niente. Poi si parla di SUAP che verrà potenziato e questo è sicuramente un'azione positiva per non fare impazzire gli imprenditori nel reperire informazioni e nel girare da un ufficio all'altro. Poi si parla di IMU che per quanto possa essere stato contenuto non è un progetto ma è un'azione di contenimento, direi dovuta, visto che c'è una profonda incapacità di far fronte alla tassazione e visto che giustamente gli imprenditori pagano prima i dipendenti che li stanno sostenendo in questo momento di crisi che le tasse. Siamo d'accordo sul recupero della morosità, sul fatto che si deve pagare, ma ci andrei molto cauta a parlare di persone non responsabili, di furbi che non adempiono al loro dovere nel pagare le tasse. Forse bisognerebbe interfacciarsi di più con le problematiche degli imprenditori e più che di azioni di repressioni, di guardia di finanza e di quant'altro, parlerei, come diceva ieri sera l'assessore, a onor del vero, di trovare insieme il modo per poter far fronte al pagamento di quanto vi è dovuto. Perché non tutti siamo uguali, c'è gente che veramente è in difficoltà, non sono in difficoltà solo le cinque persone che avete assunto voi, il territorio è pieno di difficoltà. Poi si parla di Expo, di sinergie costruttive e progettuali tra operatori della città, degli altri comuni e del capoluogo. Ecco, questo forse sarebbe un argomento importante da condividere al tavolo del commercio. Non è piacevole, assolutamente non è piacevole ribadire il male utilizzo di questi benedetti tavoli di lavoro e non è piacevole continuare a fare i guastafeste. Ma qui di lavoro ancora non ne avevamo parlato. Noi della lista civica dei giovani sestesi non crediamo, e l'abbiamo ribadito in questa aula più e più volte, lo abbiamo dimostrato con i fatti, che le scelte fatte da parte di chi è seduto da questa parte dell'opposizione, devono essere per forza urlate e contenere un no. Anche perché non è che dicendo no perché non mi assumo la responsabilità di dirti sì, me ne lavo le mani e così sono bravo. Non abbiamo risolto comunque niente. Però questo immobilismo non è più sostenibile. E onestamente non fa parte del nostro carisma. Farmacie, città della salute, alienazione e altro hanno dimostrato la serietà con cui siamo stati seduti fino ad oggi in quest'Aula. Assessore Montrasio, di recente sotto suo invito, abbiamo avuto un interessante incontro con un professore del Politecnico di Milano che si occupa di programmazione territoriale del commercio, ridefinizione degli spazi vuoti, distretto del commercio. Io le vorrei chiedere a che cosa è servito o se lei da quell'incontro ha fatto una programmazione che successivamente ci esporrà. Questo piano strategico riguarda i prossimi tre anni, se non ho capito male, il DUP 2014-2016. Quindi se le cose restano così vuol dire che a livello imprenditoriale la città è stata presa in un modo e verrà riconsegnata nello stesso modo. La condivisione del nulla diventa quantomeno improponibile a questo punto. Vorremmo veramente capire cosa ci mangeremo. Come daremo la possibilità ai nostri cittadini di trovare lavoro sul territorio. Come la città costruita, visto che sul nuovo e quindi sulla città della salute ci siamo sempre espressi favorevolmente, come questa benedetta città costruita possa fare il passaggio da ex città delle fabbriche a che cosa? Perché sul passato ci siamo, la memoria storica, altre due pagine sulla festa del 25 aprile, ma onestamente il futuro ci sfugge veramente. Altro punto, programma gestione e rifiuti, pagina 17, pubblicazione e successiva realizzazione di un concorso di idee dal titolo, crea una campagna di comunicazione contro le deiazioni canine. Ora io dico, Facebook è invasa tutti i giorni da foto che immortalano degrado urbano. La lamentela più grossa della gente è la pulizia della città. Negli ultimi due anni sono state presentate interrogazioni a non finire su questo argomento. Mozioni, commissioni su rifiuti zero, l'ho detto io, l'hai detto tu, lo faccio io, lo faccio tu. E tutto il lavoro si riduce in un concorso di idee sulle deiazioni canine. Contro, non sulle, contro le deiazioni canine. Almeno speriamo che l'assessore Iannizi, nel prossimo bando di pulizia delle strade, inserisca la pulizia senza rimozione delle auto, come abbiamo proposto, in modo tale che almeno il problema del vigile spazzatrice e delle multe lo togliamo. Poi abbiamo il capitolo della polizia locale. Sembra, si dice a pagina 18, che entro la fine del 2014 vedremo la tanto famosa riorganizzazione del settore partendo da quella figura di riferimento e di salvaguardia dei quartieri che dovrebbe essere il vigile di quartiere. Quindi a questo punto rimandiamo e attendiamo la fine del 2014. Poi c'è la parte del programma promozione sport. Pagina 22. Dopo un'attenta analisi di ogni impianto si procederà a rivedere le modalità di gestione con l'obiettivo di ridurre i costi. I signori che partecipano alla consulta dello sport queste cose le conoscono molto bene. Anzi, in uno dei primi incontri furono proprio loro a dire che o questo tavolo, questa consulta avrebbe acquisito valenza e possibilità di risolvere o se doveva andare avanti come era stato in precedenza forse era meglio non farla più perché erano stufi di ripetere sempre le stesse cose. Sono passati due anni, le piscine sono ancora lì. Io abito a Restellone e quindi il Boccaccio è ancora nel limbo. I bandi vanno deserti. Caro consigliere nostra, forse in lei mi rinchiuderei con l'assessore Cagliani in un ufficio di questo palazzo per ragionare su come far risorgere lo sport sestese e non parlo degli atleti ma delle fattiscenti strutture che abbiamo e che doniamo quando non ne possiamo più fare a meno a costi irrisori per toglierci l'impiccio. La prenda pure come critica perché la presidenza dei tavoli e delle commissioni viene data in quota la maggioranza perché giustamente siete voi che amministrate. E lei, nonostante si definisce un indipendente, devo dire che quando ha preso in mano la consulta dello sport il mio pensiero è stato adesso spacca. Invece devo dire che c'è stato un adeguamento molto lineare a quello che è l'andaz generale. Ci è dato sapere qualcosa dei project sulle piscine? No, solo due righe di accenno sul dupe e da questo si deduce un pochino il metodo. E poi parliamo di bilancio partecipato, ma se non partecipiamo neanche fra di noi vogliamo partecipare fuori. Piano delle opere. Una domanda, riusciamo a trovare qualcuno che dopo l'assegnazione controlla i lavori in corso? Perché l'assessore Piano ci ha spiegato che le asfaltature vergognose che sono state fatte non sono state pagate, ma intanto ce le siamo cucate per quasi un anno e le garantisco che spiegare questa cosa ai cittadini non è proprio facilissimo, perché loro vedono quello che hanno davanti. Programma casa. Ecco, questo ci ha profondamente amareggiato. Questo tema per il nostro comune è stato alla ribalta in questo ultimo anno, un po' per le occupazioni, un po' per la sensibilità che questa città ha sempre avuto per il cosiddetto diritto alla casa, un po' perché siamo l'unico comune del circondario che ha la deroga. Io poi partecipando per l'opposizione all'osservatorio case posso testimoniare il lavoro capillare che viene fatto dagli uffici su questo tema. A nostro avviso però questo documento strategico assessore Cagliani ha un grosso buco programmatico. Nel consiglio comunale dedicato al tema case di quest'estate sono emerse tante considerazioni e lei, assessore, sembrava favorevolmente colpito da tutti. Anzi, alla fine del suo intervento disse che si è stupito del modo armonioso e del tema di dialogo e di confronto che c'è stato fra tutte le forze politiche. La maggior parte di noi consiglieri eravamo d'accordo sul fatto che aumentando la richiesta e le difficoltà economiche il sistema andava rivisto. Si parlò di censimento come mezzo per capire se chi risiede nelle case ne ha diritto o meno, della possibilità di riassegnazione a nuclei che negli anni erano diventati più piccoli, dandogli case più piccole. Si parlò del fatto, primario ed essenziale, che un ISEE di 33 mila euro, che dà diritto alla Casa Popolare secondo una delibera di Regione Lombardia, non è più sostenibile. Ma Regione Lombardia è stata detta questa cosa, c'è qualcuno che si occupa di questo, c'è un confronto con gli altri comuni che avranno lo stesso nostro problema, anzi di più, visto che non hanno la deroga e ci li mandano tutti qua a Sesto San Giovanni come se l'ufficio case fosse diventato improvvisamente l'URD o la mortiplicazione dei pani e dei pesci di nostro Signore. Però il problema resta ed è massiccio e riguarda la vita delle persone. Capiamo, ma non condividiamo, che questo argomento è sensibile dal punto di vista politico, soprattutto per quella parte di sinistra radicale per la quale quello è e rimane un bacino di voti. Ma anche qui ci vuole coraggio, quel coraggio che abbiamo riscontrato nella scelta fatta dall'assessore Piano, che noi della lista civica Giovani Sestesi condividiamo per le sue finalità, pur essendo di base contraria alla vendita-svendita del patrimonio pubblico. La finalità è che non ci sono soldi, non c'è spazio, devo mettere a posto quello che ho, metto in vendita 50 appartamenti che si trovano già in un contesto di proprietà mista e con questo porto a casa, ristrutturo, valorizzo e poi eventualmente ne prendo altro. È vero, ci sono un po' di variabili, venderò, non venderò, c'è la scelta politica condivisibile da alcuni, non da altri, poi ci sono i sindacati, però il bello di questa cosa qua è che è stata una scelta. È un cambio di marcia, fatto poi su un argomento dove è difficile metterci le mani. Quindi stasera mi sento proprio di dire che noi applaudiamo a questo coraggio, perché quando uno sceglie, come è stato a suo tempo per farmacie, uno può anche sbagliare o può anche non raggiungere appieno il risultato, ma sicuramente si è mosso e il movimento produce sempre, presto o tardi, un cambiamento. Vorremmo concludere questo nostro intervento dicendo che pur condividendo il principio di equità che più volte ha diretto le scelte di questo nostro anno 2014, per noi equità non vuol dire vivere in una città sociale mediocre, votata alla sopravvivenza. Vorremmo per noi e per le nostre famiglie una città bella, pulita, attiva e vivibile H24. Invece la città è sporca, l'erba cresce a dismisura, camuffa le discariche a cielo aperto, anzi mi scuso, non è vero che il verde non è curato ovunque, ma lo è dove il privato ci mette mano con l'adozione degli spazi verdi. La domanda è, ma questo privato va bene solo quando sostiene una vostra idea e quando invece ne tira fuori una delle sue, via, non va più bene? Sindaco, fra poco ci saranno le elezioni per la città metropolitana, dobbiamo correre, cambiare marcia, se non ci muoviamo tra poco la città si spegnerà tutta e diventerà veramente un quartiere di Milano. Si fidi di chi ha polso della realtà delle attività? Sa che cosa ci ha salvato fino a ora? Che molti imprenditori sono figli d'arte e con lo storico e le famiglie alle spalle sono riusciti fino adesso a reggere l'urto, ma per quanto tempo? Se lei guarda le stime o le statistiche, mi perdoni, dei nuovi operatori che aprono, molte volte il loro ciclo di vita termina dopo un anno, perché non hanno la capacità di andare avanti. Quindi vediamo i negozi storici che restano sul territorio con i gomiti e vediamo tutti quelli nuovi che aprono, chiudono, aprono, chiudono e via dicendo. Città della ricerca e della salute non basterà più come passaggio a reggere il carico della città costruita e lei sa che anche questo progetto è stato da noi sostenuto. Serve un reale cambio di passo, non basta più andare a tagliare l'erba o a inaugurare le casette dell'acqua e i giardini. I cittadini di Via Leopardi, La Fratta e San Denis da tre anni aspettano una vostra risposta. Ci sono zone come via Marconi che chiedono di essere integrate all'altro territorio di Sesto, per non parlare del quartiere Restellone che si sta sciroppando il disagio di essere, come diceva lei ieri sera, assessore Montrasio tagliato in due. Prima di preparare questo intervento ci siamo chiesti se a settembre valesse la pena discutere e fare una discussione capillare quando tre quarti di scelte sono state fatte e i soldi sono stati spesi. A mal in cuore dico che per una forza di opposizione purtroppo questo momento resta uno dei pochi per poter dire quello che pensiamo. Le scelte vengono fatte a priori e la possibilità di contribuire è molto bassa. Come sempre chiediamo, stasera richiediamo e speriamo che per il bilancio preventivo del 2014 si possa usare un metodo diverso di lavorare che permetta a tutti di partecipare per le sue capacità e per le sue competenze. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà. Sì, buonasera a tutti e grazie. Io accolgo l'appello fatto inizialmente dal consigliere di volta e ho praticamente depennato, ho cancellato parecchio del mio intervento e mentre altre persone prima di me in maniera diciamo molto indicativa e molto capace hanno fatto il loro intervento, ho preso nota e alcune cose dette le ho magari modificate e alcune altre cose dette le ho cancellate a loro volta perché sennò sarebbe una ripetizione. Quindi chiedo scusa se a volte avrò dei blank mentali per cercare di capire e raccogliere il filo di ciò che sto dicendo. Il bilancio di previsione lo stiamo facendo a settembre 2014. Noi come SEL siamo perplessi, ma lo siamo ancora di più perché si rischia di avere come argomento il bilancio di previsione, ma negli interventi, come è accaduto, spesso parleremo inevitabilmente di un bilancio costantivo, nel senso che parliamo di ciò che è già successo, pur essendo correttamente preventivo perché è del primo di gennaio. Abbiamo apprezzato e condiviso le parole dell'assessore Montrasio relativamente alle modalità di gestione che riguarderanno i prossimi bilanci, quindi a partire dal 2015. Noi stiamo discutendo di un bilancio di previsione che riguarderanno i prossimi 110 giorni. La mia azienda, fra 50 giorni, chiude l'anno 2014. Questo è per dare un'indicazione di quanto alla politica e alle amministrazioni comunali, non per colpa loro, siano lontani da una realtà produttiva o da una realtà italiana che è sicuramente ben diversa, più celere e che ha bisogno di strumenti sicuramente diversi. La presenza del bilancio di un comune è l'atto politico per eccellenza che il Consiglio Comunale delibera nel corso dell'anno e farlo con 250 giorni di ritardo è sicuramente triste e anacronistico. È a seguito dei tempi, è una riforma, bilancio preventivo nel nonno mese di esercizio. Uno sguardo ampio e alcune premesse, secondo noi di Selle, sono necessarie per contestualizzare questa delibera. Il bilancio di previsione comunale non può esulare da un contesto economico e sociale nazionale, soprattutto per quanto riguarda diminuere i trasferimenti e come evidenziare l'intervento di Selle di come sarà sempre peggio in futuro. Perché non è che cambiando le regole o diminuendo gli stanziamenti cestino le spese sociali e non vi siano più disoccupati. E inoltre dietro alla parola razionalizzazione, ultimamente ho visto sempre la parola tagli. I comuni sono il primo argine alla difficoltà, sempre più crescenti dei cittadini. Quando un cittadino ha un problema si rivolge al sindaco in un modo positivo o in un modo negativo. I cittadini sono sempre più tassati e sempre più lasciati soli dai governi che sono succeduti in questi ultimi anni. I governi dove gli ultimi quattro Presidenti del Consiglio hanno detto, 2011 Berlusconi, la crisi non esiste, le pizzerie sono piene, gli aerei sono pieni. 2012 Monti, ripresa nel 2013, con Salvi Italia il PIL cresce dell'11,6%. 2013 Letta, ripresa nel 2014. 2014 Renzi, ripresa nel 2015, sblocca Italia. Fortunatamente oggi Renzi, che al di là della sua verba, mi sembra forse quello con i piedi un po' più per terra, ha onestamente detto che avremo un PIL fermo allo 0%. E con un PIL fermo allo 0%, nonostante gli aiuti che ci vengono dati, che poi spiegherò che tipo gli aiuti sono per arrivare allo 0%, l'economia non va da nessuna parte e quindi prepariamoci a altre disoccupazioni e altre tensioni sociali. Diciamo che sicuramente il Magotelme era più affidabile ai nostri precedenti Presidenti dei Consigli. Questo governo e questa maggioranza parlamentare riempiono di slogan e di tweet tutti i mezzi di comunicazione possibili, non permettono di contrapporre questo operato obiezioni e proposte diverse. Si è deciso che tutti lo dobbiamo pensare allo stesso modo. Chi tenta di proporre cose nuove viene bollato come un vecchio conservatore, anacronista, cattivo, che non ha a cuore il nostro Paese. Ma nel frattempo i Comuni, come il nostro, pur avendo idee e proposte innovative e serie in diversi settori del bilancio comunale, come evidenziato dall'assessore Montrasio nella sua relazione, arrancano e faticano a mantenere i servizi dei cittadini. Riescono a sopperire in questo, chiedendo soldi ai cittadini per colmare i non trasferimenti statali e agendo sul fronte delle spese il contenimento dei costi. Qui sì noi facciamo razionalizzazione, che non saranno provvisori, ma che saranno permanenti. Gli slogan non bastano, serve politica vera. Il governo e maggioranza devono capire che i Comuni sono il primo volano per far ripartire l'occupazione e sottolineo occupazione, visto che il Presidente del Consiglio è stato fino a qualche mesi fa sindaco di una grande città. La realtà vede oggi i sindaci in difficoltà lasciati spesso soli e spesso in baglie di regole improvvisate, poco trattamenti e talvolta solo annunciate. I Comuni sono in prima fila per la coesione sociale, sono quelli che fanno le opere pubbliche utili, che promuovono i servizi sociali indispensabili e che sempre più spesso superiscono le carenze dello Stato. Ma ora tutto andrà meglio, facciamo le riforme. Riforma non è sinonimo di miglioramento. Nel 2002 eravamo in 3 milioni circa a Roma per dire no alla cancellazione dell'articolo 18, quando governava il centro-destra. Ora che al governo vi è anche il centro-conista, sono curioso e preoccupato di vedere come andrà a finire. La diminuzione delle tutele non aumenta il benessere dei cittadini, anzi. Ma non esistono diritti che non costano e in tempi di spendo in review i diritti e le conquiste sociali sono i primi a essere cancellati. Vedendo che questo governo della larghe intese agisce come un bulldozer in questi ambiti, mi lascia un po' essere fatto. Così non va. Noi siamo per un welfare che è rivolto a tutte le categorie di cittadini e che quindi lo rende accessibili ad iniziare dall'informazione. Rissaldare un welfare nella città significa fortificare una comunità. Questa amministrazione lavora di sempre per questo. E anche fuori dal nostro comune questo ci viene riconosciuto, ve lo posso assicurare. Non si può ridigere un bilancio di previsione non avendo presenti la realtà territoriale della nostra città. Un dato da tenere ben presente è che in Stato San Giovanni le persone con più di 65 anni sono fortunatamente in notevole crescita e rappresentano oltre un quarto della popolazione. Di particolare rilievo sono i grandi vecchi, la popolazione con più di 80 anni, dove si concentrano i maggiori problemi di autosufficienza, i bisogni assistenziali più forti. Nel recente passato il nucleo familiare di ampie dimensioni e fortemente integrato consentiva di fronteggiare queste situazioni. Oggi e sempre di più in futuro, la sette della famiglia caratterizzata da una sua parcializzazione con ulteriori problemi di assistenza. Siamo una nazione, nel nostro piccolo ne siamo una palestra di testimonianza, come comune che invecchia. D'altronde per fare figli bisogna avere anche fiducia nel futuro, avere un welfare che funzioni, che possa garantire il part-time, nivi, asili, politiche attive verso l'infanzia in un semplice voucher. Occorre investire sul pensiero che vede welfare non un peso, un costo, un bombone fastudioso, ma che lo vede come un investimento, la creazione di futuro. Anche per quel far deriva da una fiscalità generale, tasse profumatamente pagate e servizi spesso non restituiti. Ma forse è per questo che il nostro comune ha visto un aumento della natalità del 10% rispetto all'anno precedente. Forse hanno fiducia nelle politiche che il nostro comune mette in atto. Se la longevità di per sé è una conquista sociale, culturale ed economica, vi è un numero sempre maggiore e crescente di anziani che tradurrà a queste richieste sempre i maggiori servizi sanitari e di cura. E questo significa maggiori oneri a fronte, per i nostri comuni, a fronte di continuità, di governativi. Quindi dobbiamo sviluppare iniziative economiche, strutturali e tecnologiche, telesoccorso, telecontrollo, telemedicina, volte a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambito familiare. Meno costoso, più efficace, più educativo. Usare l'educazione, la tecnologia significa fare bene, velocemente e risparmiando. Le politiche economiche e nazionali partono dal presupposto che sia necessario un drastico ridimensionamento della presenza pubblica nelle attività economiche e sociali, dall'idea che l'intervento dello Stato è generalmente negativo, sia uno spreco di risorse. Ma tagliare non significa eliminare l'esigenza, eliminare il problema, significa solo delegare a altri senza dare le corrette risorse, la responsabilità del servizio e questi altri sono i comuni. Certo che la salute costa, ma l'articolo 32 della Costituzione, in atto in questo momento, mi dice che è un diritto fondamentale e la politica non può prescindere da tutto questo, deve solamente metterla in pratica. Sarebbe utile riprendere qui la discussione sull'invecchiamento attivo per valorizzare la produttività sociale degli anziani e costruire un nuovo fatto tra le generazioni. Creiamo la consulta degli anziani e l'è mandato del sindaco. L'intera legge 328 del 2000 ruota attorno alla dignità delle politiche sociali, a una rete integrata dei servizi, in poche parole la promozione del benessere di tutti, per tutti. Il volontariato, l'associazionismo, la cooperazione sociale sono fondamentali per il benessere delle persone. Che buone leggi e istituzioni intelligenti devono sempre saper sostenere e promuovere. A mio avviso siamo un'istituzione intelligente. Dobbiamo ridare dignità e gioia di vivere a tutte quelle persone che con la crisi, e non solo, ne sono state escluse. Dobbiamo individuare i cittadini sempre più a rischio di esclusione sociale. Sono le politiche pubbliche che possono e devono promuovere, favorire e garantire l'inclusione sociale, preverendone i rischi e l'esclusione. E le politiche pubbliche non le promuove e sostiene il Governo, non significa che non servano, ma che le dovranno fare gli enti locali. Ma con quali soldi potranno fare queste politiche? Il Governo non può limitarsi a dire che mancano i soldi per il rifinanziamento delle casse in deroga e che coprirà i conti a fine anno, forse. Nel frattempo, in molte regioni, il mancato rifinanziamento sta determinando il rispingimento delle domande, con conseguenti licenziamenti. In questo modo si aumenta la disoccupazione, si perdono migliaia di posti di lavoro e tutto questo fa sì che il mancato rifinanziamento della cassa in deroga aumenterà anche la disoccupazione. Non è nascondendo il problema che lo si risolve. Lo si demanda ai comuni, ma senza le dovute coperture. I comuni attenti e sensibili non potranno guardare passivamente questa realtà. Il welfare è universalistico, non indica categorie, ceti, gruppi, amici, parenti, ma determina dei diritti. Ecco perché noi siamo favorevoli ai 640 euro annui, ma dati a tutta quella platea di cittadini che rientra in quelle caratteristiche, non alcuni sì e altri no. E soprattutto non condividiamo il taglio agli enti locali per trovare quelle risorse economiche. E' sembrato il gioco del cerino, rimasto acceso nelle mani dei sindaci. Forse il decreto IMU-Banchi Italia, le mancate entrate dei giochi online, una minore esenzione di IMU a edifici ecclesiastici a fine di lucro, avrebbe riscorso una più equa e ampia platea di attori alle entrate fiscali, oltre ai continui sperpoli nel campo degli armamenti. Aumentano le famiglie in cui ha un pensionato a mantenere gli altri membri della famiglia, adulti o minori. E' un fenomeno tipico delle città povere, ci stiamo impoverendo. D'aceto medio, quindi, a nuovi poveri. Il caso di essenza di mora può essere considerato la punta di un iceberg, fatto di crescente vulnerabilità e incertezza, tanto nella sfera lavorativa quanto in quella dei legami familiari e privati. Poveri e senza dimora sono tornati a essere visti come una minaccia per la sicurezza, da allontanare e respingere le nostre città. Dunque la povertà vecchia e nuova è un fenomeno destinato ad accompagnare lo sviluppo della nostra società nel tempo della globalizzazione. Qui i diritti non riusciamo mai a globalizzare. Lo è per via dei rischi di impoverimento connessi ad un'economia di mercato più competitiva ed instabile, per una minore disponibilità di sorze per la protezione sociale. Le istituzioni devono operare con commissioni di impegno per la prevenzione di impoverimento per il recupero di chi cade in margini della strada. Per originare questo ennesimo scempio e la dignità umana, creato con il concorso di tutti gli ultimi governi, dobbiamo fare qualcosa. Nel frattempo gli enti locali lavorano con tutte le forze in loro possesso, sono il primo baluardo per queste situazioni, ma abbiamo l'impressione che i responsabili di questi scempi non si rendono conto di tutto questo. Lavoratori socialmente utili, tra i 47 e i 57 anni, troppo giovani per la pensione e troppo anziani per lavorare, saranno impiegati in mansioni amministrative nel nostro comune. Cinque. Avevo anticipato il senatore Pizzinato in un libro alcuni anni fa il sorgere di questo nuovo problema sociale. Problema che iniziava a manifestarsi e che dopo la riforma Fornero, larga intesa, è esplosa in tutta la sua drammaticità. In un periodo nel quale queste fasce di lavoratori faticano più di altri a riensegliersi nel mondo del lavoro, trova giusta e lodevole questa iniziativa. Il lavoro è dignità, non è sempre esistenza o non lo è mai. E questa operazione ha l'obiettivo di recuperare la funzione sociale del lavoro. Ma noi non pensiamo che una volta votato e spero approvato questo bilancio di previsione qui tutto finisca. Perché ecco cosa ci prepara il futuro dietro l'angolo. Torna a salire la disoccupazione. Si sono persi circa mili occupati al giorno. Il totale di ore di cassa integrazione è in costante aumento. Il debito dell'amministrazione pubblica è salito a giugno di 2 miliardi di euro. Le entrate tributarie contabilizzate nei bilanci dello Stato sono pari in giugno a 42 miliardi, che sono in diminuzione del 7,7% alle entrate. Ma non è tutto qui. C'è il fiscal compact. Quanto costerà ogni anno lo Stato e di conseguenza ogni singolo cittadino che fa parte ed è proprietario di conseguenza dello Stato? Perché io sono proprietario dello Stato. Il debito dovrebbe essere ridotto di circa un ventesimo all'anno. Circa 50 miliardi annui. Ma a questo punto quanti servizi sociali verranno tagliati o diminuiti sotto la falsa voce di razionalizzazione per mantenere questi impegni? E ancora, quanto le amministrazioni locali dovranno far fronte a tutti questi tagli o affidamenti di servizio dello Stato senza le proprieture finanziarie verranno dati agli enti locali? Non è tappandoci gli occhi che i bisogni non esistono. Non fronteggiare dei problemi non significa che non esistano. Significa solamente ignorandoli, scaricandoli sulle spalle dei comuni o direttamente sui cittadini, che già svolgono ampiamente la loro parte tramite la fiscalità generale, ma che non vedono un ritorno dei loro continui e costanti sacrifici. Con riferimento alla ripartizione per i sottosettori, pensate che le amministrazioni centrali hanno un debito commentato di 5,6 miliardi, mentre quelle locali, noi, è diminuito di 3,6 miliardi. E poi noi siamo fonte di sperbero. Ho delle difficoltà enormi a capire la matematica. Il governo continua a staccare i cambiali che avranno ricadute sui comuni, comuni che spesso hanno la medesima connotazione politica del governo attuale. Tutto fa brodo per fingere che l'economia sia in crescita, e malgrado siamo in recessione. Persino includere esplicitamente, ma non siamo l'unico paese europeo a farlo, anche l'economia criminale. Ma i comuni hanno sotto i propri occhi una realtà sociale, ben chiara e poco rosia. Quotidianamente è questa. Proositiva, secondo noi di SEL, iniziativa del nostro comune di avviare una sperimentazione per il recupero delle amorosità tramite società di recupero crediti, basando esso sulla Tarsu del 2013. La nostra Costituzione cita, e vorrei ribadirlo perché molti si dimenticano di questo, che ogni cittadino è tenuto al pagamento delle tasse alla collettività a seconda delle proprie capacità. Capitolo scuole. Dovrebbero arrivare circa, alla fine, un miliardo al nostro comune, dei 3 miliardi e mezzo inizialmente accennati e diciamo sparati in qualche slide a febbraio 2014. Speriamo che questi finanziamenti per l'edilizia colastica, su questi finanziamenti il governo non faccia marcia indietro. Ci auguriamo veramente di no. Il nostro comune ha preventivato un intervento sulla scuola Oriani. Quindi vedremo, speriamo di riuscire a farlo, ne abbiamo bisogno. E venendo la formazione, se la scuola pubblica è un obbligo per lo Stato, finché io non ne ho soddisfatto tutti i bisogni, alla scuola privata non do niente. Capitolo mense scolastiche. Dobbiamo porre attenzione alle rette delle mense scolastiche, monitorandole e continuando a coinvolgere in questi i genitori degli alunni, come è stato fatto finora con molta attenzione. Non dimentichiamoci che le rette sono ancora in fase sperimentale. Investire sulla città come bene comune è un nostro dovere. Città quali sostenibilità sociali e ambientali devono diventare un binomio imprescindibile. Capitolo core. Multa al core. Riguarda anni passati, dal 2001 al 2010, mi pare. Chiaramente la paga il core, con fondi accantonati e con una non ridistribuzione degli ultimi. Core è proprietà del comune se steso e per circa il 40%, se non erro, con i pro e i contro, con una società di questo tipo implica. Chiaramente se una città ha partecipazione comunale totale e o parziale, oggi è in difficoltà, il comune ne risente. Chi ne paga le conseguenze e di conseguenza i momenti di difficoltà sono i cittadini. I momenti in cui si andava molto bene hanno goduto enormi benefici sul livello delle tariffe. Ovvio che in momenti di bilanci risicati come possono essere quelli odierni, questa mancanza di ridistribuzione di utili equivale a meno soldi da impegnare verso i cittadini e forse a ulteriori sacrifici in alcuni capitoli di spesa. In passato i contributi sono stati usati per diminuire le tariffe, ma ora li dobbiamo restituire. Diciamo che abbiamo avuto un prestito interesse zero, ma è difficoltoso in tempi come questo restituire l'intero capitale senza risentirlo. Appalto del verde. Un ordine del giorno approvato quando si parlava di tasi, al paragrafo F di scritto deve essere assunta entro il mese di settembre e quindi premiliminarmente l'avversamento della prima rata dell'Atari una scelta definitiva per la gestione del servizio di igiene ambientale atta a migliorare qualità e sostenibilità. È un punto da portare avanti velocemente, la città ne ha veramente bisogno. Le città devono essere pedonalizzate, ciclabili, respirabili. Le metropoli non possono continuare a espandersi infinitamente, come hanno fatto negli ultimi 50 anni. Occorre quindi riconvertire all'uso abitativo le strutture produttive dismesse, ma soprattutto riconquistare spazi per la collettività e il verde. Nessuno valita in questo campo i costi sociali e ambientali causati da periferie anonime o pezzi di città disabitate in alcune ore della giornata. La prossimità crea vivibilità, socialità, innovazione. Abbiamo presentato, come diceva prima la consigliera Iosa, una mozione per la creazione di una o più usine pedonali all'interno della nostra città. Ma è un peccato che la consigliera Iosa, sempre attenta e precisa, non abbia avuto la stampa corretta della mozione. Perché all'ultimo punto la mozione diceva il Consiglio Comunale impegna la Giunta a portare all'interno del tavolo del commercio questa mozione, al fine di ricevere contributi da parte di alcuni portatori di interessi sestesi e di rendere effettiva questa mozione nell'arco di 90 giorni della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Quindi questo significa semplicemente che io proponevo di portare alla consulta, dove ci sono gli attori principi, di come fare, come istituire un'isola pedonale. Perché io credo nelle consulte, forse non come sono fatte in questo modo, ma che siano forse più attive e che abbiano un potere maggiore. Però ci ho sempre creduto e ci crederò sempre. Peccato che non abbia letto o visto l'ultimo paragrafo. Ma non è un problema, la mia simpatia rimane in muta. Per quanto riguarda discorso ecologico, prevenzione e informazione sono fondamentali. Le istituzioni sono fondamentali per una diminuzione o un maggior riutilizzo del rifiuto. E' importante il riutilizzo del rifiuto. Ma il consumatore, se informato, può e deve fare molto. Ma in realtà vengono prodotte cose che durano poco, perché bisogna vendere tanto. Nuova deve lasciare spazio al nuovissimo, perché il problema è il mercato. Dobbiamo sostenere una civilizzazione dell'uso e getta e così rimaniamo in un circolo vizioso. Il problema del rimanellamento dei rifiuti sta diventando veramente un problema grave. A giorni presenteremo una mozione per adottare, visto che siamo in bianco di previsione, per adottare gli ecocompattatori da utilizzare, ritornando all'utenza che gli utilizza di buoni sconto, in collaborazione con realtà territoriali o con la diminuzione tra uno di accumulo di punti sulla Tari, se questo sia possibile. Una domanda volevo fare, e qui ammetto la mia ignoranza. Ma i mercati cittadini e i rionali effettuano la raccolta differenziata? E questa è una domanda. Proposta. Perché non predisponiamo dei cestini situati nella nostra città per raccogliere in modo differenziato i rifiuti? Molte città lo fanno, via la plastica, via la carta e via il generico. Vogliamo essere chiari nel campo eco e quindi in un futuro. Il gruppo consigliere di SEL ha appoggiato e appoggerà in futuro il referendum cittadino per la chiusura e o riconversione dell'inceneritore termovalorizzatore del nostro comune. Come SEL, d'altronde, sostiene anche l'altro referendum cittadino sulla proposta di quorum zero nei referendum comunali. Anche nella nostra città il nemico numero uno è la crisi occupazionale che si sta portando via posti di lavoro ogni mese e che sta mettendo in fuga aziende grandi e piccole. Anche se si è fatto molto, forse una revisione dell'aliquota di un IMU ulteriore per facilitare il sorgere di nuove realtà imprenditoriali sul territorio, forse dovremmo farla. Da questo deriva la creazione o il mantenimento di un tessuto produttivo perché senza un tessuto produttivo non c'è lavoro e senza lavoro si fa fatica a fare i bilanci. Capitolo case o politiche abitative. Come priorità è la necessità di calmerare il mercato degli affitti, la ristrutturazione, la definizione di alloggi pubblici, così come aggiornare i criteri di inchiusione del diritto alla casa. Come causa delle politiche recessive mette in atto da questi governi larghi intesi vi è anche purtroppo l'emergenza abitativa che è una logica conseguenza e che coinvolge molte fasce della popolazione ma con particolare crudenza nelle città ad alta densità abitativa come la nostra. Secondo SEL, il disagio abitativo andrebbe affrontato rendendo più conveniente attraverso l'introduzione di un sistema bilanciato di incentivi e disincentivi fiscali il recupero dell'esistente. Un obiettivo strategico che dovrà essere perseguito attraverso la riconosizione nei fini abitativi di mobili abbandonati e dismessi. Questo potrebbe far sì di ampliare la disponibilità di alloggi da dare in affitto ad un canone veramente sostenibile. Parecchie positive esperienze devono essere sostenute e socializzate. Il nostro comune in questi ambiti non è sicuramente all'anno zero. Anzi, tutt'altro devo dire. Idee innovative e idee concrete ne sono state messe in campo veramente tante. Ma vi è un fenomeno sempre più diffuso, quello degli alloggi in tentata vendita. Quando si passa davanti a ogni palazzo si trovano almeno due, tre, quattro cartelli a seconda ragazza del palazzo in cui c'è scritto vendo. Ma il problema è se ci sono così tanti appartamenti in vendita perché i prezzi non diminuiscono? Il mercato nel cambio abitativo non è ancora entrato, cioè non hanno ancora letto libri economici in cui la domanda tra virgolette se è superiore all'offerta aumenta il prezzo e viceversa. Cioè, tutto questo in venduto dovrebbe far sì secondo me che venga regalato. Ma in realtà, infatti, non è così. Ma a questo punto bisogna cercare di di fare qualcosa. Secondo me bisogna passare a recuperare gli accentri direzionali in alcune città. Bisogna cercare di capire cosa fare con gli edifici di smesso in altri tipi di città. Comunque bisogna sicuramente cercare di mettere un freno a queste situazioni perché è impossibile non avere la casa e avere in giro così tante case scritte. Che fare di conseguenza? Secondo me bisogna vedere l'attuale sistema della graduatoria in ambito comunale e considerare la possibilità di accedere ad un unico sistema di ammissione in ambito provinciale visto che andiamo in area metropolitana. Sul disincentivare lo sfitto a sesto ci si muove da tempo come dimostra l'aliquota dell'ex Imo ma si può fare forse di più ad esempio applicando la legislazione urbanistica regionale che prevede di censire gli immobili iscritti e nei casi di interi palazzi intervenire modificando nella destinazione d'uso. Occorre pensare a avviare una vera politica della casa sicuramente l'area metropolitana aiuterà in tutto questo l'integrazione di livelli istituzionali diversi aiuta. L'operazione di mettere sul mercato 50 alloggi di proprietà comunale al fine di destinare le eventuali entrate sempre in quell'ambito ossia una riqualificazione di alcune alloggi di proprietà comunale nel suo complesso viene da noi valutata abbastanza positivamente. Sapendo che non esistono fondi per potenziare in altro modo le edilizie pubbliche e riqualificarne l'esistente dell'edilizia pubbliche siamo politicamente certi che l'assessore della partita nel suo intervento lo evidenzierà e che sicuramente dirà che il saldo finale delle loggi di proprietà comunale sarà uguale o maggiore rispetto ad oggi visto il bisogno di case che esistono nella nostra città. L'assessore sarà sicuramente capace di convincerci in modo che se il passi da abbastanza positivamente a molto positivamente o molto favorevole. Piste ciclabili auspico una vigilanza auspicabile una vigilanza sicuramente più attenta sulle piste ciclabili per il parcheggio degli automobili sono molto pericolose. Alcuni mesi fa in Viale Casiraghi due ragazzine sono scute e sono state coinvolte in un incidente abbastanza grave causato da un'auto parcheggiata in doppia fila fatto cronico in quel tratto di via. L'importanza secondo noi quindi della prevenzione e della disfasione è molto importante in questo potrebbero essere d'aiuto i vigili di quartiere che per noi di SEL sempre per essere chiari devono svolgere il loro servizio in coppia. L'installazione di pannelli solari sull'edificio di Giovene del Tocrocio è stata premivata nel 2013 ed è noi auspicata fin dalla precedente consigliatura. Anche qui siamo felici di essere stati ascoltati ora lavoriamo affinché questi progetti come altri diventino realtà la città ne ha bisogno. Alcune nostre richieste fatte nella gestatura del 2012 e ribadite nel 2013 erano l'intervento dell'assessore Montrasio relativo al bilancio di previsione dello scorso anno elencate come impegno. Il bilancio partecipativo definito uno strumento utile era stato preso come impegno insieme al bilancio di genere ambientale e sociale. Speriamo che nel 2014 questi strumenti di partecipazione e rendicondizioni diventino realtà. Aiuto e obbliga sicuramente in questo ad avere deliberato in questo consiglio comunale l'applicazione del bilancio partecipativo con alcuni voti della minoranza e con qualche dissenso tra la maggioranza. Ma SEL non chiede una verifica di maggioranza per questo. Capitolo sportivo lo sport non è una pari di denaro ma è un sano investimento in cui credere secondo noi. Lo sport è in primis un importante strumento di coesione e l'educazione sociale. Salute è investire nello sport e prevenzione. Sport di tutti per tutti. Speriamo che il futuro ci potrà far usare ancora questa espressione. Stiamo lavorando finché questa espressione venga incisa con dell'infiostro indelebile. piscina Carmelo dicevamo che bisognava cercare di fare qualcosa in un ambito in quell'area e mi sembra di aver intuito che nel piano delle opere si è andati in quella direzione. Quindi il fatto di cercare di sistemare di avere un po' l'eccellenza sportivo in quell'ambito della città lo troviamo estremamente positivo. Parlando di bilancio di previsione se questo fosse veramente un bilancio di previsione avremmo potuto dire che inauguravamo un campo da rugby ma l'abbiamo già inaugurato con i controfiocchi presso la struttura del campo Manin struttura su cui nessuno avrebbe scommesso fino a qualche mese fa. Avremmo detto questo peccato che non possiamo vedere la manifestazione polistica del primo maggio avremmo detto in quanto vi sono i campioni mondiali in Cina noi saremmo rimasti senza diversi nomi di spiego. Ma ora possiamo dire e qui lo dico a consuntivo che la camminata stupenda per alcune vie di sesso organizzato dal gruppo di free working con l'aiuto di tantissime associazioni del territorio tra cui AUSA SOS e se altre ma solo città ne alcune è stata veramente bella ramentanti e tutti colorati e sorridenti. Chi avremmo fatto il tifo per i tanti campionati che vengono impegnate molte rappresentative a se stessi? Ora ne sappiamo i risultati quindi complimenti a tutte e a tutti ma a posteriore chi ha raggiunto l'obiettivo e chi l'ha sfiorato ma con la certezza di riprovarci e con più entusiasmo a breve. Un ramarico di non riuscire a coinvolgere realtà produttive operanti nella nostra città nell'ambito sportivo questo è un vero piccato. Dobbiamo continuare a essere proattivi verso chi propone sport nella nostra città aiutiamo i volontari dello sport le finanze sportive ehmè non esistono esistono solamente le finanze delle idee in questo campo. Mi dispiace di avere visto anzi la consigliera io usa solamente due volte su 15 o 20 che la consulta dello sport si era donata perché abbiamo presentato tantissime cose tra cui abbiamo anche stilato un nuovo regolamento della consulta dello sport per essere più incisivi ma sempre in un ambito propositivo e consultivo che è questo che la consulta può e deve fare i compiti sono questi proporre e consultare non deliberare non legiferare in questo campo stiamo aspettando una risposta che a breve sicuramente arriverà io combatto da sempre per il fatto che le consulte abbiano un potere diverso ma la consulta dello sport come altre hanno questo però mi sembra veramente poco edificante vedere che 15 persone che poi alla fine sono 20 si trovano due volte al mese in orario diciamo anche disagiato se permettete cercano di fare qualcosa senza soldi assolutamente senza soldi per diciamo creare un tessuto sportivo e fare del bene sbagliando anche allo sport di questa città e questo lo devo dire anche per l'ufficio sportivo perché quando noi ci raduniamo sono le 18.30 fino alle 21 22 e loro sono con noi non vanno assolutamente contribuendo alla nostra discussione e aiutandoci spesso in campi che non conosciamo assolutamente volevo far presente anche che la consulta dello sport quest'anno su 15 persone 14 sono completamente nuove chi vi sono gli oratori chi vi sono società sportive di tutti i tipi e che tra virgolette stiamo cercando di mettere in campo qualcosa per quanto è i nostri compiti che possa essere propositivo all'amministrazione nient'altro che propositivo grazie grazie a consigliere nostra chiesto la parola la consigliere di teferrante mia favolta prego buonasera a tutti in questa seconda settimana di settembre ci troviamo ad approvare il documento di programmazione economico-finanziario per l'anno 2014 la proroga è stata necessaria per quei comuni che non hanno predisposto il bilancio di previsione 2014 a causa delle difficoltà di disporre in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie o che avendo rinnovato il consiglio comunale di sindaco nel mese di maggio si trovano in difficoltà ad approvarlo entro il termine il nostro comune ha scelto di utilizzare la proroga diversamente da tanti altri da nord a sud Italia che hanno provato il bilancio di previsione ad aprile 2014 o addirittura entro dicembre 2013 ci pare comunque anomalo e non corretto parlare di un bilancio di previsione del 2014 a settembre 2014 quando dovremmo invece vedere il consuntivo di metà esercizio vediamo quali sono le conseguenze del differimento del termine del bilancio di previsione in primo luogo la proroga al 30 di settembre ha determinato automaticamente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio come prevede della legge all'articolo 163,3 del decreto legislativo 267 del 2000 durante tale periodo non possono essere effettuate le spese con carattere di novità per esempio i nuovi investimenti ma si può solo fare la gestione ordinaria approvando ora il nostro sindaco e la giunta dimostrano di accontentarsi di svolgere un esercizio provvisorio così come definito dalla legge inoltre cosa ancora più grave approvare nell'ultimo trimestre dell'anno un bilancio di previsione impedisce di fatto all'attività del consiglio comunale di svolgere la sua funzione di organo di controllo e di indirizzo in un periodo storico economico e politico così delicato dove occorrono politici che pianifichino nel territorio strategie diversificate su una molteplicità di problemi di temi dal lavoro alla mobilità alla riqualificazione urbana sesto arranca e blocca lo svolgimento corretto delle sue funzioni di governo è una crisi nella già grave crisi del paese le prime parole del nostro sindaco Chittò una volta eletta sono state lavoro 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 parole che non hanno avuto un seguito assistiamo al trasferimento di imprese storiche del nostro territorio vedi le pompe gabioneta che il nostro sindaco dice per di più di aver appreso in maniera casuale e per vie traverse se l'azienda se l'azienda gabioneta ha scelto il territorio di Nova rispetto alle aree sestesi significa che la nostra amministrazione non ha saputo dare le risposte che invece quel comune più rapidamente e senza burocrazia è riuscita a dare abbiamo chiesto pubblicamente di informare le forze politiche tutte di maggioranza e di opposizione sugli sviluppi della vicenda e sulle strategie che il comune intende adottare sul tema impresa lavoro in modo che ognuno nell'interesse della comunità sestese possa fare la propria parte non abbiamo ancora avuto risposta ridomandiamo che strategie intende adottare il sindaco per trattenere le imprese ancora rimaste nella nostra città quali sono le forze lavoro presenti in città la chiusura di tante unità produttive di ogni tipo e questa ulteriore perdita del nostro territorio dovrebbe indurre la politica locale a fare un salto di qualità mettendo fine a tutte quelle lentezze burocratiche che impediscono le aziende di fare impresa e creare posti di lavoro è assurdo che Sesto San Giovanni dopo quasi vent'anni non solo non sia stata capace di rilanciare e riqualificare le ex aree industriali dismesse più grandi d'Europa che costituiscono la vera ricchezza della nostra città ma di contro continua a perdere pezzi importanti del tessuto produttivo e imperenditoriale di ciò che è rimasto nella nostra città quali sono le misure per il rilancio dell'economia locale a favore del mondo produttivo e commerciale se guardiamo il bilancio di previsione per lo sviluppo economico è destinato solo lo 0,6% delle spese correnti riduttivo quanto stanziato per il commercio ciò dimostra la mancanza di politica espansiva e di sostegno al commercio di vicinato per affrontare il tema del rilancio economico si deve ripartire dal contenimento della pressione fiscale alimentato da una serie spending review e da azioni capaci di scardinare sacche di malgoverno create negli anni da consorterie pubbliche e private è quindi triste constatare analizzando il bilancio di prisione 2014 che invece ci troviamo con una imposizione tributaria cresciuta del 18,6% in più rispetto al 2013 passando da 46 a 55 milioni di euro da 576 a circa 685 euro pro capite il sindaco Chittò e la giunta elevando le aliquotei mutasi e tari ha innalzato il carico delle principali imposte su ogni cittadino le detrazioni in vigore sono state ridotte colpendo anche le fasce più deboli e le famiglie con studenti di età superiori 18 anni anche il costo della messa scolastica è aumentato la maggior parte dei tributi si paga a prescindere dal reddito questo vale per l'imu che ha natura patrimoniale e per la tasi che si giustifica con i servizi indivisibili ed in realtà non è altro che l'imu travestita sulla prima casa la tari merita un capitolo a parte la tari o tassa sui rifiuti è un nuovo tributo che sostituisce la tassu il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ci costa 11 milioni e 308 mila e 453 euro è un costo elevato eccessivo se paragonato al livello di igiene urbana percepito dai cittadini discarichi a cielo aperto disseminate per la città sono sotto gli occhi di tutti la città è sporca i giardini sono abbandonati all'incuria le rotonde con l'erba alta non consentono la visibilità mettendo a rischio di incidente i veicoli in transito occorre prendere dei provvedimenti immediati invertire la rotta cambiando il metodo di tassazione passando alla tariffa puntuale numerosi sono i comuni all'estero ed in Italia che hanno ottenuto con successo una riduzione notevole dei costi percorrendo la strada della strategia rifiuti zero occorre sensibilizzare i cittadini per fare bene la raccolta differenziata in cambio di un risparmio sulla tassa sui rifiuti e cercare di cambiare il modo di vedere i rifiuti e i servizi ad essi correlati non hanno contribuito a contenere l'aggravio per i contribuenti neanche i dividendi delle partecipate stimati in circa un milione di euro della Core a causa della maximulta da 8 milioni di euro che dovrà pagare perché il TAR della Lombardia ha rispinto il ricorso anzi dall'azienda farmacie comunali abbiamo dovuto sostenere le perdite di 5 milioni di euro considerando l'utilizzo delle riserve di cui 2 milioni pesano nei bilanci 2013 e 2014 l'azienda farmacie comunali è stato un luogo di spreco di denaro pubblico le società partecipate vanno costantemente monitorate perché i loro bilanci a fine anno vengono consolidati con quelli del comune ad esempio la società in liquidazione consorzio trasporti pubblici quanto ci costa annualmente se non ricordo male attorno ai 200 mila euro l'anno attenzione quindi di fronte a un tale disavanzo è facile aumentare le imposte e le tasse ma ci si aspettava una decisa revisione della spesa invece la spesa corrente è sempre troppo alta con una media di 915 euro a cittadino sono necessarie azioni serie di contenimento dei costi altrimenti si renderanno necessarie come a dicembre dell'anno scorso delle variazioni di bilancio per aumentare le entrate le spese di gestione pesano per oltre il 33% delle spese correnti mentre le spese sociali sono pari al 22% la spesa per il welfare è effettuata in tre aree di intervento il 5,6% per gli anziani il 9,4% per gli asili nido e per l'infanzia il 7% per assistenza beneficenza e servizi diversi alla persona l'attenzione della politica per i minori in pratica è concentrata solo sull'infanzia mentre il tema dell'adolescenza è consegnato tradizionalmente alla scuola e alla famiglia occorre fare un salto di qualità assumendo il tema delle politiche per l'adolescenza come strategico non bisogna occuparsi solo delle emergenze l'adolescenza è un'età di conflitto e di crescita è una lettura esclusivamente familiare e solo parziale idem per la scuola che rappresenta un pezzo importante della vita degli adolescenti ma meno totalizzante rispetto alle generazioni precedenti la dispersione scolastica l'aumento della disoccupazione giovanile non è più un dato marginale i giovani che interrompono in anticipo gli studi accedono con difficoltà al mondo del lavoro una situazione che porterà ad un gap sempre più grande che inciderà sulle generazioni a venire e sul futuro della città occorre assumere strategia di medio e lungo termine con una programmazione di risorse e strumenti volte a dare ai giovani tutte le opportunità per il loro futuro agli adolescenti e ai giovani è legato il tema delle dipendenze in particolare quelle per il gioco d'azzardo il 42% della popolazione tra i 15 e i 25 anni secondo il CNR ha giocato almeno una volta nell'ultimo anno e il presidente del Kodakons ha dichiarato che i giovani a rischio di dipendenza sono circa 500.000 il gioco risulta diffuso soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione giovani disoccupati famiglie povere anziani soli i giocatori più a rischio sono complessivamente i soggetti con bassi livelli di scolarizzazione inclini ad alcol e fumo ed esposti ad abusi alcolici di farmaci occorre riconoscere il gioco d'azzardo come un grave problema sociale e di salute pubblica e di lineare politiche adeguate per affrontare e prevenire il gioco d'azzardo patologico allo scopo di proteggere i giocatori dai rischi della dipendenza e dalle pratiche criminali sul discorso della spesa sociale è quindi necessario innovare le forme di erogazione dei servizi il cambiamento deve partire da nuove idee e strumenti che investano sulla sussidiarietà sociale in cui il ruolo degli enti pubblici è essenziale e strategico a partire dalla predisposizione e allocazione delle risorse necessarie abbiamo un vastissimo giacimento di soggetti di natura sociale che va dal terzo settore all'impresa sociale all'associazione operanti sul territorio che sono un bacino prezioso un crescendo di associazioni di volontariato si ribellano alla rassegnazione che senza fondi non si può fare nulla e prendono iniziative di partecipazione esemplare valorizziamo dunque con i fatti e non solo a parole risorse competenze e professionalità del mondo della solidarietà sociale in un rapporto di collaborazione ripeto di collaborazione con gli attori pubblici occorre costruire un nuovo welfare basato sul riconoscimento del bisogno delle persone e delle famiglie con l'obiettivo di coordinare le risorse a disposizione dei diversi settori e assessorati solidarietà sanità casa giovani si rimetta in discussione l'idea di specializzazione anche nel sociale che ha frammentato le esperienze di vita dei cittadini anziché aiutarli a ricomporle per fare ciò si rende necessaria l'integrazione delle competenze e delle risorse fra sistemi diversi e complementari sociale socio-sanitario formazione lavoro politiche per la casa al fine di ottenere un sistema più aperto coeso più comunitario per quanto riguarda il problema abitativo la situazione è insostenibile il disagio abitativo riguarda sempre più gran parte della popolazione in affitto anziani immigrati ma anche i proprietari della propria abitazione tanto da diventare la nuova questione sociale la perdita del lavoro o l'instabilità lavorativa la malattia la morte del coniuge la separazione lo sfratto dell'abitazione sono eventi che rendono più probabile l'ingresso degli individui nella marginalità sociale occorre ridurre le forme di disagio grave agendo come abbiamo già chiesto nell'incommissione sui criteri di assegnazione dei fondi degli alloggi a canone sociale e verificando nel tempo se sussistono ancora i requisiti per l'assegnazione degli stessi verificando inoltre se il patrimonio residenziale a finalità sociale è gestito con criteri di efficienza in secondo luogo occorre ridurre il fenomeno della vulnerabilità sociale abitativa mediante facilitazioni di operazioni di permuta compravendita e frazionamento degli alloggi e come detto ampliando il patrimonio residenziale da destinare all'affitto con quote di alloggi a canone concordato molti sono gli strumenti previsti a sostegno alla persona e della famiglia messi a disposizione della regione dalla regione 120 milioni di euro che vanno dall'incentivo finanziario diretto a strumenti di garanzia per accompagnare verso l'uscita dal bisogno all'incremento dell'offerta abitativa alla valorizzazione degli alloggi sfitti invenduti o incompleti l'amministrazione deve essere capace di utilizzarli ma per agire occorre innanzitutto conoscere chiediamo come anche qui abbiamo già chiesto in commissione che venga svolta una ricognizione degli stabili degli enti pubblici e comunali a cura dell'assessorato dei servizi sociali e dell'assessorato al patrimonio con l'obiettivo di capire quali sono in disuso o da ristrutturare in conclusione sono tante le sfide attuali per una programmazione coerente e adeguata alle reali necessità e con l'attenzione ai nuovi bisogni invece ci adagiamo ad un lavoro provvisorio sesto ahimè è amministrata a spot più che su basi reali e questo è fonte di grande preoccupazione il sindaco e la giunta sono chiamati a un cambiamento profondo che richiede alla visitazione di molte categorie culturali mentali e professionali che riporti la centralità sulla comunità e sulle relazioni grazie grazie alla consigliera Titte Ferranti ha chiesto la parola alla consigliera Vanducci nella facoltà prego grazie io volevo far vedere guardare assieme un po' della documentazione che ci è stata inviata ma stasera non funzionano i link e quindi io ho cercato di aprire il bilancio i documenti e c'è sempre scritto errore 404 pagina o file non trovato e già questo però non depone a favore come dire di un'organizzazione e di un bilancio perché io stasera ho sentito molte parole molte anche condivisibili ho sentito poche cifre cioè noi stiamo discutendo di come dire divisioni generali io ho ascoltato con interesse parole non so il consigliere Nossa faremo le piste ciclabili cosa pensiamo delle piste ciclabili l'ecologia capito chi oggi direbbe che non è d'accordo sulle piste ciclabili sul fatto che sulle piste ciclabili non si deve parcheggiare ma cosa c'entra con la previsione del bilancio con il bilancio preventivo cosa c'entra cioè qui siamo di fronte a delle cifre cifre che però non ci sono non sono visibili stasera perché non abbiamo il cartaccio per risparmiare ma non abbiamo neanche il link che non si apre cioè quindi come dire andiamo cerchiamo di ricordarci quello che c'era scritto ho capito che nessuno se ne accorda nessuno li guarda i numeri solo io cerco di aprirli e solo io dico allora se l'avete visto ditelo che non si aprono perché se no non è che lo fanno solo io e improvvisamente dico io non si apre perché tutti abbiamo detto come sono bravi gli uffici come lavorano bene che bello che bello non si apre il link è tutto molto bello ma non c'è molto tutto virtuale così virtuale che non si vede allora in questo non vedersi io a memoria vagamente cerco di ricordare ma soprattutto quello che mi colpisce è in questo periodo la lamentela continua perché io vorrei che diventasse obbligatorio il sistema in uso in Germania della sfiducia costruttiva cioè se io dico che una cosa non mi va bene devo contestualmente dire cos'è che dovrei fare perché stasera abbiamo sentito piangere su Italia i comuni e sono giorni che siamo oberati da pianti alla televisione su Italia alla polizia ai carabinieri agli statali cioè quelli che voi dite no? quando si dice i ministeri non tagliano e gli statali sono quelli lì allora cosa dobbiamo in effetti devo dire che sono cinque anni che noi non vediamo un euro in più sono molto contenta che qui come dire si siano dimezzati i bonus io qui non vedo il bonus non ne ho mai visti per gli statali i bonus non ce l'hanno qui non si vede neanche un euro d'adeguamento da cinque anni a sta parte altro che dimezzare il bonus anche perché poi io mi ricordo ma io sono molto vecchia che quando sono cominciati i premi i premi si davano ai commerciali nel senso che il commerciale andava a vendere i biscotti aveva dice il tuo devi vendere come minimo due tonnellate di biscotti se ne vendo due tonnellate virgola uno prendi il premio cioè condividiamo il guadagno io vorrei davvero capire per il pubblico cosa sono i bonus cosa abbiamo cosa hanno fatto in più cioè io voglio il bonus quando promuovo tre persone in più voglio il bonus e insomma cioè ragazzi qui non è che possiamo calcolare materialmente cosa c'è non è che andiamo a vendere le patate allora ci diamo degli obiettivi che sono raggiungimento della piena efficienza del lavoro poi c'è la scheda di autovalutazione dice sì io ho letto non del comune di Sesto ma ho letto che su 100 dirigenti di media 99,9 hanno il bonus non ce n'è uno che non raggiunge questo obiettivo noi sono bravi ma come sono bravi e qui però il link non si apre e io so cioè purtroppo il link non si apre forse questo bisognerebbe che si aprisse ma questo è un particolare no? allora io dico che forse bisogna parlare di cifre e io di cifre dico alla consigliera Titta Ferranti di cui ho condiviso i contenuti ma è certo che si è fatto solo le spese cioè l'ordinaria amministrazione sono anni che c'è solo l'ordinaria amministrazione per cui non serve a niente questo bilancio pure chiacchiere cioè qui abbiamo un bilancio di 80 milioni di euro di cui 79,9 sono di spesa corrente che sono coperti dalle nostre tasse con un aumento spropositato cioè nessuno che abbia detto una parola di comprensione per questi cittadini sestesi che si sono beccati il 3,3 per mille di tassa sulla prima casa stiamo a piangere sulle crisi le crisi la cosa il ceto medio chi è che ha le prime case se non il ceto medio gli abbiamo messo la tassa al massimo possibile e io sono convinta che se il governo diceva non il 3,3 per mille ma il 3,5 noi mettiamo il 3,5 cosa piangiamo qui non c'è bravura di nessuno qui noi facciamo un conto dobbiamo spendere 80 milioni di euro ce ne arrivano in tutto di fuori ci hanno fatto un taglio e chi se ne frega io aumento le tasse io aumento le tasse c'è un buco una tasca in cui si piglia sempre perché se io se noi da 5 anni non abbiamo un annullerio di adeguamento si sono adeguate solo le tasse quelle si sono adeguate sicuramente sono molto contenta degli 80 euro di bonus fiscale per non so per chi perché quando io sento Marianna Madia che dice che così dipendenti statali quali dipendenti statali guadagnano quella cifra così bassa da poter avere gli 80 euro forse qualche bidella part time ma part time però perché una bidella secondo me a tempo non part time non ci arriva è già sopra però qui abbiamo una spesa qui abbiamo aumentato le tasse sulla casa perché così copriamo le spese correnti perché questo è questo bilancio noi chiediamo agli uffici di cosa c'è bisogno per pagare e poi adeguiamo le tasse su questa base e non mi si venga a dire trasferimenti perché l'IMU l'IMU sulla prima casa l'anno scorso era di 5 milioni di euro noi abbiamo messo una tasse per 8 milioni di euro già depurata delle detrazioni perché se ci mettono dentro le detrazioni sono 10 milioni di euro che paghiamo noi perché le detrazioni non le regala il comune di Sesto le pagano i cittadini con una rendita catastale un po' più alta a quelli con la rendita catastale più bassa perché i cittadini di Sesto globalmente pagano 11 milioni di euro di prima casa 11 milioni di euro di questi la nostra amministrazione bonariamente ne restituisce 3 milioni di euro un po' meno ma mi pare circa 3 in detrazione a chi ha le rendite più basse e gliene restano in tasca più di 8 a fronte di 5 milioni dell'anno scorso con guadagno netto 3 milioni di euro beh insomma bel bonus eh tutto levato dalle tasche della prima casa dei cittadini non parliamo della seconda casa che è considerata un lusso stratosferico magari la prima casa ereditata dalla propria mamma morta che non so cosa bisogna fare regalarla al comune perché la seconda casa che qui noi sappiamo ci sono moltissime seconde case turistiche ci sono folle che vengono qui a fare le seconde case no? seconda casa turistica 10,60 per mille ragazzi cioè io secondo me con i soldi che prendiamo i cittadini potremmo lastricare le strade d'oro quante tasse gli prendiamo non una parola ho sentito di rimorso per questo questo bilancio è tenuto in piedi esclusivamente dalle nostre tasse fino a quando fino a quando in una città sempre più impoverita fino a quando ce la faremo in nome di mitici servizi che sicuramente non sono quelle della pulizia urbana perché la città è sporca ha ragione chi diceva non mi ricordo forse d'Alessandra Iosa su facebook ogni giorno ci sono almeno 10 fotografie di piccole discariche a cielo aperto nel mio nei miei box via fratelli bandiera angolo via rovani c'è da quando sono tornata il 31 agosto appoggiati c'è un pezzo di lamiera gigantesco che non ho capito da dove sia venuto fuori ma c'è e due assi da stiro le vedo solo io e lì giacciono insalutati ospiti e da nessuno tolti mai siamo all'8 di settembre io sono rientrata il 31 agosto come ho messo la macchina nel box ho visto che c'è perché sono tra i deficienti che tiene la macchina nel box pagando naturalmente cifre molto alte di tassa di smaltimento dei rifiuti senza parlare della sicurezza io stasera ho fatto tardi e mi scuso perché il presidente del consiglio comunale aveva chiesto se si presenta alle 8 sono andata 8 e mezzo in effetti fino a un quarto alle 8 sono stata nel cortile davanti a casa mia in una piccola assemblea volante del condominio in cui stiamo cercando di capire come bloccare l'epidemia di furti che ci sta violando il condominio da tre mesi a questa parte abbiamo avuto sette appartamenti rapinati nel frattempo tutti abbiamo cercato di mettere allarmi a tutti i generi naturalmente questa è una bella città amica solidale e tutto devo dire che siamo totalmente ignorati da chiunque è un come dire è una nuova equa e giusta redistribuzione del reddito immagino quello di avere ladri acrobati che arrampicandosi fino al sesto piano perché nel mio palazzo il sesto piano entrano e prendono una giusta redistribuzione del reddito sono sicuramente poveri e io già era lì uno che diceva perché non mettiamo una guardia se poi le becco io no no se le becchi te gli dici prego continuate perché solo ieri abbiamo letto dell'imprenditore bresciano che per aver sparato a uno che nel cortile stava rubando il SUV poverino è mancato si è preso sei anni e due mesi di reclusione in via definitiva cioè manco quelle se io faccio una strage in macchina mi piglio normalmente tre anni ma questi sono particolari io ho detto no facciamogli niente ah no l'unica cosa che è successa questa ve la racconto perché è divertente è che il sesto appartamento svaliggiato è di una signora vedova e gli hanno rubato il fucile da caccia del suocero che il marito aveva conservato e poi il marito è morto e lei ha tenuto il fucile e ha avuto grossi guai perché la prima cosa che gli hanno detto i carabinieri è dov'è la denuncia del fucile e la signora che era un po' sconvolta la casa stravolta non trovava non trovava la denuncia del fucile del marito che aveva fatto fatta dal marito e gli hanno detto guardi che se non la trovi non ce la dà entro un'ora c'è una denuncia penale rischia qualche mese di carcere erano molti se erano molto severi erano molto severi questi poi per fortuna la signora nella disperazione ha trovato la denuncia e quindi non l'ha avuta ma quindi mi rendo conto che questo non è importante secondo rivolta perché non è importante quella sicurezza non sono importanti i rifiuti per terra e sono importanti i servizi i servizi non so cosa voglio dire però ci sono i servizi i mitici servizi che qui come a Sesto non ci sono da nessun'altra parte e meno male che così paghiamo tante tasse perché così abbiamo questi mitici servizi compreso quello di asfaltare la strada di via Cesare da Sesto il primo giorno di scuola con la gioia di tutti cioè stamattina pare che qui tutti volessero cioè forse da ieri c'è un caos tremendo perché come sono tornati tutti i sestesi in città si è chiusa via Cesare da Sesto per riasfaltare tutto agosto non c'era quasi nessuno ma l'abbiamo asfaltata all'otto di settembre perché era più bello così almeno avevamo un po' di ingorghi perché almeno quello ci potevano mancare invece noi volentieri li abbiamo avuto così si vede che si spende per una asfaltatura che forse era stata fatta l'anno scorso quando erano stati fatti i lavori quando era stato asfaltato via Cesare da Sesto cioè c'era già da rifare l'asfaltatura ragazzi un'asfaltatura che è durata niente speriamo che questa duri un po' di più vista anche la rottura di scatole di questi due giorni per i cittadini io credo che veramente siamo di fronte a un paradosso il paradosso di un bilancio preventivo fatto praticamente a chiusura d'anno è che non è altro che la certificazione di quanto costa questa struttura perché questa è la realtà il nostro bilancio preventivo è il costo della struttura comunale che poi funziona in una maniera assolutamente accettabile nella quotidianità come direi tutta l'Italia settentrionale ecco direi in questo nella nella norma ma non c'è nulla che faccia pensare che ci stiamo domandando come rendere sostenibile questi costi al di là di continuare ad aumentare la pressione fiscale al di là di questo perché veramente ogni anno c'è un aumento pro capito della pressione fiscale che fa paura e non c'è nessuno né al centro né in periferia né a Roma né negli enti locali che si ponga davvero questa domanda che naturalmente vale in primi se forse ho sentito forse l'unica cosa nuova che ho sentito è quella di di denoia sulle partecipate finalmente un discorso basta basta il core di cui abbiamo sentito elogi sperticati per anni e che adesso naturalmente si trova a pagare 8 milioni e rotti di multa quindi una gestione che è stata un errore evidentemente no perché c'è stato qualcosa che non ha funzionato perché ci hanno detto fino al giorno prima che sicuramente avevamo ragione invece è venuto fuori che avevamo torto per non parlare delle farmacie di cui non c'è ancora il bilancio 2013 ma come si fa a non avere ancora il bilancio 2013 adesso di una SRL io credo che qualunque società privata che all'alba dell'8 settembre non avesse ancora chiuso il bilancio 2013 i responsabili come minimo si beccano la denuncia cioè qui fino a quando possiamo arrivare a non avere un bilancio dell'anno che si è proposto più di quello nuovo la Corte dei Conti ha detto che andava benissimo fare la SRL sul bilancio 2012 e cosa dobbiamo fare va tutto bene qua dentro io non so come si fa ad autorizzare una SRL a cos'è la maggio 2014 che ha come pezza ad appoggio il bilancio di un anno e mezzo prima quale società privata avrebbe potuto fare una cosa del genere io veramente vi domando come sia possibile una gestione così dissennata del patrimonio pubblico perché non c'è un'altra parola è una gestione dissennata quindi noi abbiamo un'amministrazione quotidiana una spesa corrente che cammina da sola come dire in ambiti più o meno costanti vorrebbe vedere che stesse ad aumentare a fronte di risorse sempre più limitate quindi chiaramente aumentando la pressione fiscale abbiamo una gestione di investimenti che ha detto la stessa consigliera Pennasi praticamente azzerata praticamente azzerata no? ha detto mi sembra che questo fosse il succo del suo intervento più o meno ma è evidente basta vedere appunto gli oneri di urbanizzazione e abbiamo una gestione delle partecipate che fa paura di cui non solo non danno utili al momento ma cerchiamo di tamponare perché io ho il vago dubbio lo so che io sono molto maligna che questo ritardo nel bilancio delle farmacie significhi che il famoso pareggio che ci doveva essere non c'è c'è dubito che ci siano buone notizie sul bilancio 2013 perché dubito che qui nessuna nuova sia buona nuova temo che nessuna nuova sia cattiva nuova e che verrà fuori alla fine che anche il bilancio 2013 il suo bel buchettino ce l'ha dopo che naturalmente abbiamo rinunciato perché sono rivolta sono cinque anni che quando chiudiamo un bilancio in perdita il responsabile ci dice che però il bilancio dell'anno in corso mostra già una tendenza che fa pensare almeno a un pareggio per l'anno in corso e all'attivo per quello dopo sono quello che è stato detto esattamente l'ultimo vai a risentirtelo va bene allora io di fesserie qui le fesserie purtroppo non le dico io le dicono altri le fesserie perché a forza di fingere di non vedere anche del core anche del core si diceva che assolutamente la multa non era da pagare infatti la stiamo pagando infatti la paghiamo adesso ho visto che finalmente la corte dei conti ha avuto un sussulto e ha cominciato a dire che forse chiederà un danno orariale di 800 mila euro a di leva alla sostaro e è arrivato non so chi del comune c'è un comunicato che dice meno male che i conti li ha fatti la corte dei conti perché noi ancora non abbiamo quantificato il danno orariale ma sono passati anni cioè cosa dobbiamo fare per quantificare del danno orariale cosa dobbiamo aspettare comunque vediamo se recuperiamo il danno anche se immagino che rovesciando usciranno le cambiali quindi non recupereremo nulla perché dubito che troveremo 800 mila euro in tasca di queste persone quindi vabbè quindi dico ma che tipo cosa dobbiamo dire forse i link non si aprono per vergogna ci hanno vergogna anche i link di aprirsi cosa devo dire cioè stiamo qui a parlare di che cosa il bilancio è un bilancio di spese correnti in cui è chiaro che l'amministrazione non è in grado se non di fare dei piccolissimi aggiustamenti chiedendo più o meno bonus il 50% o meno ma poi io ho guardato non so per esempio la spesa sociale sono 16 milioni di euro grossomodo euro più euro meno divise in tre voci ma di queste tre voci non so quella 6 milioni di euro per aiuti sociali la terza voce una voce 3 milioni di euro per prestazioni di servizi cosa vuol dire può voler dire tutto può voler dire li ho spesi benissimo li ho spesi malissimo li ho puntati dalla finestra ho fatto cose geniali ho fatto cose clientelari non vuol dire nulla cosa possiamo controllare controlliamo un come dire un conto economico che per forza è giusto poi parliamo con i revisori i revisori dicono le cifre sono giuste e certo vorrei ben vedere se no si va in galera non è questo vorrei ben vedere credo bene vorrei ben vedere che la dottoressa Sassetti e la dottoressa Fiori stanno bene attenti e giustamente a fare le cifre giuste perché quello che loro dove mettono la firma loro è una responsabilità loro sono loro che rispondono della come dire della correttezza come dire finanziaria del bilancio ma certo non c'è la dottoressa Sassetti quando scrive 3 milioni di euro prestazioni di servizi lei prende atto di quello che hanno speso gli altri assessorati e dico scusate noi non potremmo vedere qualcosa di più cioè tutto e le voci sono costo del personale prestazioni di servizi fine prestazioni di servizi cosa vuol dire prestazioni di servizi servizi a chi voucher consulenze cooperative affidamenti una cifra che rappresenta il 25% del bilancio totalmente tranne che per gli asili nido in cui si vede totalmente incomprensibile totalmente incomprensibile non giudicabile e cosa dobbiamo dire non possiamo dire nulla le uniche due voci comprensibili sono da una parte gli asili nido perché chiaramente il costo degli asili nido non si capisce lì ma mi pare che ancora una volta non ci sia come dire la manutenzione della struttura non ci siano i costi di esercizio della struttura e l'altra la mensa il costo della mensa certo il costo della mensa è chiaramente una partita di dare avere in cui certo c'è uno sbilancio pesante di un milione e mezzo di euro però la voce è chiara il resto io non riesco a capire come vengano spesi questi soldi perché non c'è una indicazione minima non so per o meno la differenza tra voucher affidamento di servizi niente assolutamente nulla prestazione di servizi che vuol dire fatture pagate ad esterno immagino questa sia la cosa una prestazione di servizi vuol dire io ho avuto 3 milioni di fatture ho pagato 3 milioni di fatture ma non ditemi che possiamo controllare qualche cosa è del tutto incontrollabile io poi non mi diverto più a fare il giochino se le cifre quadrano è chiaro che quadrano è molto più brava di me la dottoressa Orseti a quadrare a far girare le cifre no? forse noi dovremmo controllare un po' di più quelle che sono i moduli di spesa ma quello non si vede non si vede da nessuna parte a parte appunto il link che non si apre al momento piccolo problema che però c'è quindi mi scusi consigliere Landuzzi non si apre il link siamo d'accordo però in sala consiglio il cartaceo è sempre disponibile non solo stasera ma in tutti i consigli comunali quindi se vogliamo prendere visione del cartaceo presente si può fare grazie il cartaceo è disponibile a chi dove come proprio per di fronte a questi imprevisti che può succedere capito va bene allora va bene così diciamo che è un bene no no ah ecco meno male ho voluto precisare me ne sono contenta grazie no se no io poi mi domando e vorrei capire qual è l'idea per esempio perché qui si parla molto dello sport no sport io ne intendo molto poco però quando si parla dello sport le consulte ci consultiamo molto ma non so sei tu che parlavi anche la consulta degli anziani no basta consulte cioè abbiamo la consulta dei giovani la consulta del commercio la consulta dello sport mi pare che ne abbiamo abbastanza di consulte cioè almeno gli anziani lasciamo l'impace gli ultimi anni della vita in pace cioè no ecco così tanto per chiarire ma vorrei capire sullo sport allora ci stiamo domandando una cosa reale cioè che gli impianti se non sono manutenuti vanno a pezzi o no se no di cosa parliamo di cosa stiamo parlando io sono anni che se non no di project finanzi sulle piscine non ne voglio più sentire perché io me lo ricordo il complesso natatorio di Zunino che era il più bello d'Italia dopo Trieste e che ci siamo radunati il giorno ormai col consiglio comunale sciolto perché se non la provavamo subito non era pronto in due giorni il grande complesso di Zunino noi l'abbiamo votato però di grande sistema come si chiamava non sistema natatorio come si chiamava centro natatorio perché di piscina non abbiamo visto niente ci hanno fatto vedere c'erano anche gli ombrelloni tutto non c'è niente adesso il come dire il project financing si è riversato sulla carmelongo ma non ho capito chi mai dovrebbe farlo questo project financing chi trova in cambio di che cosa di quale guadagno perché il project financing prevede che tu poi ci riguadagni cioè riprendi i tuoi soldi e abbia anche un minimo di guadagno non vorrei che finisse anche questo come quello dei cimiteri che è rapidamente morto forse bisognerebbe cominciare a pensare a qualcosa di più realistico guardando i numeri per quello che sono e non solo per quello che vorremmo che fosse in ogni caso quello che mi colpisce di più invece tornando all'ultimo argomento è quello della Tari in cui devo dire che però obbligatoriamente dobbiamo arrivare a coprire il 100% della spesa allora siccome risparmiamo tutti dunque il 70% delle famiglie risparmia il 60% delle imprese risparmia chi paga di più chi sono i disperati che pagano di più perché se tutti risparmiamo ci sarà qualcuno perché per arrivare alla stessa cifra di prima insomma qualcuno si prende una bella stangata però perché dobbiamo ritrovare gli 11 milioni di euro grosso modo che c'erano per la famigerata Tarzu ma adesso abbiamo sentito che il 70% delle famiglie risparmia il 60% delle imprese risparmia 55% delle imprese risparmiano chi sono i disperati che pagano li facciamo fallire le imprese li facciamo fallire perché se si caricano tutto il costo della Tarzu cioè perché la cifra globale lì non si può non si può scappare io anche lì no cioè non so come fosse possibile muoversi però io credo che da molti punti di vista dobbiamo cominciare a dire che si paga effettivamente sulla base di quello che si produce quindi anche lì non si può continuare soltanto a penalizzare uno perché c'è una casa più grande che già paga un imo da paura perché così tu siete solo no ha detto per evitare di danneggiare troppo le famiglie numerose si è deciso di valutare i metri quadri tutti uguali in modo che così sono più penalizzati quelli con la casa grande rispetto a quelli con la casa piccola e in questo modo si è fatto in modo di non pesare troppo sulle famiglie numerose ho capito però se io sono da sola sono anni che mi porto sulle spalle il peso delle immondizie altrui insomma che questo secondo me non è educativo non è educativo perché uno deve cominciare a pagare per le immondizie che fa perché in questo modo forse si va a valorizzare ancora un po' di più anche la raccolta differenziata perché se io so che altrimenti aumentano i costi forse sto più attento comunque in ogni caso tutti risparmiano ma alla fine troviamo adesso stiamo tutti aspettando con grande curiosità l'F24 che ci manderete per la pagamento della della Tari per vedere quali risparmi riusciremo ad avere quasi tutti hanno risparmiato evidentemente qualcuno dovrà pagare molto di più o Rivolta non è d'accordo no io ho capito perfettamente come funziona io consigliere Rivolta per favore ma meno male che ci sono i geni qui che capiscono tutti cioè sei tu che hai capito tutto e addirittura immagino che miracolosamente perché hai neanche bisogno di vedere i numeri perché hai già capito a priori ma non hai già fatto l'intervento non hai già fatto l'intervento non puoi tacere un momento qualcuno ti ha interrotto qualcuno ti ha interrotto qualcuno ti ha interrotto consigliere Rivolta il PT ha ancora 40 minuti quindi può riposare lui no però lui no per nostra fortuna lui no tutti gli altri sì ma lui no lui no allora io tutto questo lo tengo per dopo eh quindi va bene tanto io lo ripillo sto tempo quindi se fichetti bene se no continui ad andare avanti sai com'è allora è chiaro che noi siamo di fronte poi cioè almeno qualcuno che dice che non va bene perché cioè noi assistiamo dopo la sceneggiata di ieri sera in cui il PD non si è voluto prendere responsabilità di fare alcuni interventi assistiamo stasera alla sceneggiata di tutti quelli che si alzano e dicono com'è tutto bello buono bravo ringraziamo gli uffici ringraziamo l'assessore ringraziamo chiunque va bene dopo che abbiamo ringraziato tutti cerchiamo di capire e soprattutto non ringraziamo mai i cittadini che pagano le tasse devo dire non mi è piaciuto quel discorso appunto sul fatto ma chi non paga ma chi non paga se stiamo siamo tutti svenati dalle tasse ma cosa ma possibile che l'unica cosa che ha detto l'assessore ripetuto poi da qualche consigliere di maggioranza sui cittadini tartassati che bisogna recuperare quelli che non pagano tutto cioè di tutto non c'è stata una parola nel dire siamo dispiaciuti dovrebbe che abbiamo dovuto aumentare in questo modo vergognoso la tasse per pagarci le spese non una parola e poi cosa si piange sulla crisi da cosa credete che sia fatta la crisi se non da una pressione fiscale insostenibile cosa volete che investiamo che non riusciamo più neanche a pagarle queste tasse abbiamo la pressione fiscale più alta del mondo che supera di gran lunga il 50% cosa volete che consumiamo consumiamo i fazzoletti per piangere almeno una parola per il contribuente sestese no gli diciamo che loro siccome spendevamo poco ci siamo inventati anche la società di recupero morosità che non lo fa mica gratis cioè non spendevamo abbastanza dobbiamo pagare la fattura a quelli che vanno a cercare l'amorosità cioè non potevamo farlo noi ci abbiamo 700 dipendenti prendiamo i 5 socialmente utili e mettiamo a fare quello no paghiamo una società cioè non avevamo pagato abbastanza e ce le ascriviamo prestazioni di servizi in quale voce non lo so ma è sicuramente una prestazione di servizi deve concludere grazie devo recuperare due minuti di rottura d'anima di rivolta un minuto prego quindi io credo che veramente questo bilancio sia il de profundis alle capacità di spesa dei cittadini perché qui se non capiamo che tutti i risparmi sono spesi sono spesi in imposte e che quindi non ne usciamo senza una vera diminuzione della pressione fiscale chi volete che compri le case se anche uno ma le case tutti dicono bisogna venderle basta chi volete più che investa in case da affittare perché invece di pagare il 10,60 per mille si paga il 10 mamma mia come si paga poco cioè capite voi cioè sembra che sia un regalo perché una casa in affitto dove praticamente quasi non riesce a pagare le prese straordinarie oltre alla ai soldi da dare allo Stato dobbiamo dare il 10 per mille anche al Comune e viene detto come se si pagasse poco ci avete fatto risparmiare lo 0,60 per mille se invece lo diamo gratis a un nostro figlio quindi paghiamo il 10,60 per mille perché vuol dire che siamo dei terrificanti capitalisti non dobbiamo avere nessuno sconto quindi è chiaro che siamo di fronte ad una amministrazione ma non solo di Sesto che fa il conto di quello che deve spendere per la propria sopravvivenza e gira il conto ai cittadini gira il conto ai cittadini grazie consigliera e questo è la ragione vera della stagnazione in cui siamo perché in questo modo nessuno investe più ma tutti cercano solo di scappare che è esattamente quello che è successo nel basso impero romano quando la pressione fiscale è diventata insostenibile tutti sono scappare grazie 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 alla consigliera Anducci ha chiesto la parola alla consigliera Franciosi che ne ha facoltà prego grazie presidente anzitutto anzitutto quanto emerge è l'assoluta volontà non modificare il trend tipico degli ultimi anni ossia la volontà coprire ogni cattiva gestione con entrate che gravano sui cittadini sestesi sempre più considerate esplicitamente da voi come Bancomat a disposizione per coprire gli ulteriori costi prodotti a voi non importa se possono essere realizzati risparmi ulteriori o se si possono recuperare anche importanti quantità di denaro attraverso azioni di rivalza nei confronti di amministratori che hanno nuociuto alle finanze del comune ciò che vi importa è non far vedere i risultati delle fallimentari politiche perché attuate dal vostro stesso partito molto più facile recuperare da chi non può lamentarsi o esimersi il giochetto è anche semplice dato che le giustificazioni abbondano basta ricordare i vincoli e i limiti imposti dal governo peccato che siate sempre voi anche al governo cioè ve la suonate e ve la cantate da soli purtroppo però questo non è tutto riuscite anche a fare bilanci e piani triennali in cui non sono presenti impegni precisi di nessun tipo le spese e le entrate in larga parte sono generiche o supposte nei documenti la cosa non è credibile ora siamo a settembre e tutto è già stato definito io ho chiesto più volte agli uffici di spiegarmi le singole poste dei prospetti dei vari documenti e ogni singola posta è una cifra presunta che probabilmente io speravo in realtà oggi di aver copia di quegli emendamenti li vedremo domani gli emendamenti tecnici volevo capire in che senso poi effettivamente queste cifre verranno modificate vedete poi quando in commissione un dirigente commissione quella del durante la quale abbiamo discusso il piano triennale delle opere un dirigente afferma che può impiegare anche solo 15 giorni per spendere 300.000 euro e questa affermazione è stata fatta a seguito di una domanda diretta il piano triennale delle opere approvato a ottobre dell'anno scorso e che non è ancora esecutivo perché verrà poi approvato col bilancio di quest'anno prevede tutta una serie di spese che dovranno essere completate tra settembre e dicembre è tanta roba però il dirigente competente ha detto che lui sarebbe in grado di spendere tutti questi soldi in manutenzioni straordinarie e affini anche in soli 15 euro la cosa altrettanto allarmante è quando l'assessore afferma che non ha mai visto un piano degli interventi realizzato come pianificato ma che non si mettono a disposizione i dettagli di come realmente da qua a fine anno si vuole procedere alla realizzazione delle singole opere di fatto l'approvazione e la discussione di stasera è come detto più volte un mero esercizio formale probabilmente a qualcuno visto che stiamo andando incontro a elezioni di secondo livello probabilmente a qualcuno verrà in mente di eliminare con una qualche legge l'approvazione del bilancio in consiglio comunale tanto ormai i consiglieri per assurdo è un assurdo ok però era assurdo qualche anno fa pensare che dei consiglieri potessero eleggere degli altri consiglieri e invece adesso lo stiamo facendo a parte gli scherzi come dicevo cerchiamo di capire che cosa sia provisto dal documento unico di programmazione vediamo che il capolavoro secondo noi appunto è nella parte degli investimenti vengono inseriti due project financing che come dicevo ieri anche in relazione sono anni di cui che sentiamo menzionare ma che non sono ancora stati realizzati e poi oneri di urbanizzazione di circa 1,6 milioni di euro che però mi è stato spiegato non sono oneri di urbanizzazione solo di quest'anno ma anche degli anni passati per cui è un residuo che ci stiamo trascinando negli anni e quindi di conseguenza bisognerebbe capire da dove arrivano questi oneri di urbanizzazione ma ancora dopo quei bei grafici nella sezione strategica la propaganda dilaga a fronte di un bilancio che voi avete definito in commissione privo di investimenti strategici a causa dei vincoli imposti riuscite a scrivere sempre nel documento che la nostra città ha bisogno di investimenti forti per guardare con fiducia al futuro per cui la domanda è li possiamo fare o no questi benedetti investimenti l'unico investimento che peraltro è fermo per problemi giudiziari è la città della salute la cui costruzione sembra essere pianificata a partire dal 2017 cioè oltre la previsione dei nostri bilanci che arriva del nostro bilancio che arriva fino almeno quest'anno al 2016 date che però secondo noi andrebbero riviste tutte perché in commissione in regione il nuovo direttore di infrastrutture Lombardi ha detto che i lavori inizieranno solo a bonifiche ultimate le bonifiche non sono ancora iniziate tutto il resto del documento sono piccoli interventi già da tempo pianificati e programmi del tutto propagandistici verrebbe da dire senza possibilità di smentita che siete stati colti anche voi dall'annuncite coacuta come solito dimostrare il vostro capo parole ad effetto buttate lì o in modo gratuito o a voler giustificare scelte ostili alla cittadinanza ma già prese cioè impegni cui dover far fronte ma ancora non esplicitati inquietante ed è la ragione per la quale abbiamo presentato un emendamento che discuteremo domani da questo punto di vista è la volontà di dare un incarico ad una società privata di recupero crediti noi speriamo vivamente ma dubito fortemente che questa decisione venga rivista perché i cittadini non sono i vostri servi da spennare con ogni mezzo ma persone e famiglie che possono non essere in grado di far fronte alle tasse imposte ed in questo periodo si dovrebbe capire o cercare di capire il perché le tasse non sono state pagate secondo noi deve essere l'amministrazione ad occuparsi del recupero crediti valutando caso per caso è vergognoso pensare di scaricare su una società esterna questa inconvenza sapendo che la società privata ha come obiettivo finale il profitto il recupero delle tasse non deve essere associato al profitto niente viene scritto anche per evitare situazioni critiche sulla volontà di diminuire il prelievo fiscale da qui ai prossimi anni anzi molti tributi aumentano nel tempo qua noi abbiamo parlato soltanto della tasse che è aumentata però nessuno a me è arrivata notizia ha parlato di quanto è aumentato il costo delle luminarie nei cimiteri o quanto sono aumentate le imposte per presentare i progetti edilizi da privato all'ufficio preposto e sono tutti piccoli aumenti che vanno a discapito dei cittadini non solo ma è qui che chiedo un chiarimento perché forse non ho capito bene ma sembra che il tributo per la allora quest'aspetto l'imposta di soggiorno che è previsto il cui gettito per quest'anno e l'anno prossimo è previsto in 200.000 euro nel 2016 è previsto in 400.000 euro questo gettito aumentato è un residuo che verrà trascinato è una previsione di residuo oppure è un aumento previsto della tassa di soggiorno per il 2016 perché anche questo va considerato visto che a Cinisello questa tassa non c'è magari le persone inizieranno a non venire più nei nostri alberghi e andare da un'altra parte il documento programmatico è una presa secondo noi in giro è brutto dirlo ma lo pensiamo realmente sembra di leggere i programmi politici di 30 anni fa con pochissime buone idee e nessuna decisione di realizzarle anche le poche buone intenzioni come ad esempio il bilancio partecipato la gestione economica attiva del patrimonio immobiliare o ancora la vivabilità urbana e sostenibilità ambientale sono di fatto impegni non pianificati né avviati non commentiamo poi il programma di gestione dei rifiuti di cui prima la consigliera Iosa ha fatto una battuta dove viene riportato unicamente anche in questo caso abbiamo presentato un emendamento un concorso di idee intitolato crea una campagna di comunicazione contro le deiezioni canine come facciamo a fare una campagna contro le deiezioni canine poveri cani sì ma è scritto in una maniera è brava ecco noi vogliamo che un programma arrivi a proporre la riduzione dei tributi in alcuni casi la loro eliminazione laddove possibile come ad esempio la tassa sulla prima casa oppure a rivedere i tributi la tassa la tarifazione puntuale è venuta fuori più volte sicuramente sarebbe una soluzione migliore rispetto alla Tari è ovvio che non poteva che quest'anno avete deciso questo ma avreste potuto anche decidere di non applicare la Tari quest'anno e provare con la sperimentazione della tariffa puntuale l'Issone lo ha fatto credo anche di mercato quantomeno diversi comuni della provincia di Monzebrianza stanno iniziando a sperimentare la tariffa puntuale tariffa puntuale verso la quale noi abbiamo anche presentato una mozione verrà discussa probabilmente con la prossima consigliatura è in coda per cui purtroppo sarà così in quel modo sicuramente chi produce i rifiuti paga per quanto produce grande merito da un certo punto di vista va fatto perché si è visto che avete fatto lo sforzo per cercare di contenere il carico di questa tassa quantomeno sulle utenze domestiche però io mi ricordo che i ristoranti hanno un aumento del 600% ed è tanta roba di questi tempi su esercizi commerciali scusate sugli esercizi commerciali andare a incidere così tanto con una tassa è quantomeno difficile da mandar giù il documento di piano in realtà mi ha portato a diversi spunti di discussione non vorrei entrare troppo nel dettaglio però vorrei fare un unico appunto sulla polizia locale non mi ricordo più esattamente in quale pagina forse nella porzione di strategica nel piano strategico c'è scritto che si sta pensando nell'ottica della città metropolitana di sviluppare una polizia locale del nord Milano che può essere anche una buona soluzione io ho chiesto ai consiglieri del nord Milano del movimento se hanno avuto notizia di questo progetto non ne sanno niente è una proposta che farà il comune di Sesto agli altri comuni o è un progetto che come amministrazioni pensate di sviluppare quindi è già un discorso in atto perché il punto fondamentale ed è quello che secondo me è venuto fuori più volte nei discorsi quantomeno di questa parte è che manca non tanto la progettualità perché i progetti ci sono ma sembra che manchi poi lo svolgimento del progetto l'idea è meravigliosa però io mi aspettavo probabilmente ingenuamente che in un documento di piano ci fosse anche come intendiamo sviluppare perché Assessore Piano visto che la polizia locale ricade sotto la sua diciamo giurisdizione la porzione relativa al risparmio energetico che suppongo abbia scritto non so se l'abbia scritta poi lei di suo pugno però è dettagliata è incommiabile io le giuro che se lei riesce da qui ai prossimi anni a sviluppare tutto io mi toglierò il cappello e le berrò a stringerla a mano perché è riuscita a riportare anche le singole leggi della comunità economica europea in merito al risparmio energetico e questo le fa merito peccato che però quando si parla di rifiuti le leggi della comunità economica europea vengano completamente disattese anzi non compaiono neanche l'altro spunto in realtà riguardava la parte sul mi ha proceduto la consigliera Iosa sulle pari opportunità i progetti sembrano troppo sbilanciati a favore delle donne glielo dico da donna io ho partecipato alla prima riunione della commissione delle pari opportunità e io mi ricordo che lei aveva sottolineato il fatto che in commissione ci fossero soltanto donne le pari opportunità devono essere pari per le donne e per gli uomini per una donna della mia generazione che ha ottenuto per le lotte delle generazioni precedenti tutte le pari opportunità e le possibilità di affrontare il mondo del lavoro che ha un mio collega uomo bisognerebbe sviluppare un altro progetto successivo che cosa se ne fa una donna adesso di tutte queste cose e come fa a competere non competere a rendere complementari le proprie possibilità a quelle di un uomo perché parlare solo ed esclusivamente di genere femminile inizia secondo me a essere estremamente riduttivo è come se il genere maschile venisse accantonato dobbiamo fare secondo me un passo successivo rispetto a questo poi se vuole magari potremmo anche dettagliare meglio l'argomento per quanto riguarda la vendita degli immobili anche lì 50 immobili sono tanti a fronte del fatto che non sia ancora conclusa la vendita dei 10 dell'anno scorso mettere a bilancio così tante risorse per coprire progetti per quest'anno a fronte di una difficile vendita degli immobili è difficile da comprendere è un salto secondo me pindarico estremamente forte è altrettanto la cosa che non mi convince fino in fondo nel momento in cui voi alienate queste case le domande che mi vengono in mente avete già predisposto le tabelle millesimali come verranno poi pagate gli interventi nelle porzioni condominiali che a quel punto saranno miste perché è successo recentemente qualche anno fa che uno dei palazzi delle Gescal che è stato ristrutturato da se non sbaglio da Aller contenesse all'interno degli appartamenti privati ecco i privati ad oggi non hanno ancora pagato perché non sono chiare le imputazioni perché non sono mai state fatte le tabelle millesimali corrette per cui non è chiaro chi deve pagare che cosa nel frattempo ha pagato Aller e il buco è presente basta perché poi le altre cose le hanno sviscerate ah no l'ultima cosa che volevo dirla come prima si è parlato tanto di sport questa sera io purtroppo anche lì avrei voluto presentare ma non ce l'ho fatta per una questione di tempi un'ordine del giorno perché in regione hanno reso possibili dei bandi per finanziare dei progetti legati allo sport e bisogna presentare lo sapete già? ah no e no io non lo sapevo ho detto lo dico in consiglio comunale magari non lo sapevano neanche loro perché è una cosa abbastanza recente lo dico alla fine e van presentate le domande entro il 30 settembre non potendo fare l'ordine del giorno perché l'ho saputo oltre i tempi limiti mi permetto di consigliare questa cosa direttamente in consiglio comunale grazie grazie alla consigliera Franciosi ha chiesto la parola il consigliere Premonata che ne ha facoltà grazie presidente concordo anch'io come molti che mi hanno preceduto sul fatto che sia un po' paradossale trovarci questa sera ad approvare il bilancio ormai a settembre quando invece sarebbe stato più corretto farlo all'inizio dell'anno definendo delle linee di indirizzo per poi dar modo a passare all'azione di controllo per il consiglio comunale quest'anno non è stato possibile non certo per volere nostro per il prossimo ovviamente ritengo opportuno che ci attrezziamo nonostante gli ostacoli che prevedibilmente ci saranno anche l'anno prossimo per approvare il bilancio in tempo però pur nella incongrua tempistica con la quale siamo qui ad approvare il bilancio io credo che siamo comunque riusciti a interpretare il ruolo proprio del consiglio di indirizzo e controllo se consideriamo che in realtà il percorso di bilancio è iniziato già a maggio con la decisione riguardo alla Tasi e il relativo ordine del giorno che è stato approvato oggi rispetto a quello posso esprimere un parere positivo sull'operato dell'amministrazione comunale in relazione agli indirizzi espressi in quell'ordine del giorno le azioni messe in atto in poco tempo dall'amministrazione comunale che sono stati elencati ieri dall'assessore quindi non mi dilungo vanno effettivamente nella direzione da noi proposta a dimostrazione del fatto che non c'è stata da parte dell'amministrazione comunale solamente una richiesta di sforzo maggiore al contribuente al cittadino comunque non fatta a cuor leggero il mio contributo su alcune questioni nella discussione di stasera innanzitutto soprattutto in questo periodo che non mi dilungo nel definire difficile di crisi critico è necessario garantire da parte dell'amministrazione comunale equità e sostenibilità è necessario continuare con tutte le azioni ieri elencate in particolare ne sottolineerei due il costante controllo sono le parole dell'assessore di ogni euro speso ed incassato si ritengo che sia necessario continuare con questa caccia agli sprechi e alle opportunità di miglioramento su questo dovrei aprire una parentesi su un ordine del giorno che abbiamo presentato per risparmiare tempo mi dilungherò durante l'esposizione dell'ordine del giorno dall'altro lato l'impegno contro evasione e morosità decisamente secondo me intollerabile per tutti i cittadini onesti e io ritengo che siano la stragrande maggioranza dei cittadini onesti che ci siano persone che ritengano di poter non contribuire in ugual modo trovo irresponsabile giustificare come un po' velatamente questa sera ho sentito questa amorosità e questa evasione assolutamente irresponsabile e intollerabile la comprensione c'è per chi non può pagare per chi è in difficoltà e ieri se non mi sbaglio l'assessore l'ha già citato cioè se una persona è in difficoltà una famiglia è in difficoltà l'amministrazione non ha sbattuto la porta in faccia a nessuno è disponibile a fare i piani di rientro e su questo tutto però alla luce del sole e nel rispetto della legalità è assolutamente intollerabile che venga così giustificato il fatto che in base a uno stato di necessità che uno si autocertifica cioè uno si crea una sua etica personale secondo la quale secondo lui lui ha pagato troppo e troppo in difficoltà e quindi non paga più questo è gravissimo secondo me qui si apre si scivola in una china pericolosa e si apre un crinale da una parte la crisi come opportunità di rilancio di pulizia e di ripartenza e dall'altro la crisi come distruzione della società come la conosciamo distruzione del romano impero basso mi sembra che abbia detto prima la professoressa è proprio qua cioè noi qua dobbiamo decidere se difendiamo lo stato sociale come lo conosciamo difendiamo una coesione sociale di questa comunità oppure se diamo invece voce a chi è disfattista secondo me su questo noi come consiglieri comunali abbiamo una grossissima responsabilità questa è la sede che ci siamo dati per prendere decisioni per tutta la comunità ciascuno con il ruolo che gli compete la maggioranza al suo ruolo l'opposizione al suo ruolo ognuno faccia il suo compito porti le sue proposte discutiamo qua però appunto ripeto evitiamo di scivolare al di fuori della legalità perché a quel punto si apre tutto uno scenario che diventa incontrollabile e che ci porta secondo me a un grave rischio di disgregazione di una coesione sociale che nel nostro territorio nonostante tutta la crisi è ancora forte quindi la responsabilità ce l'abbiamo noi come maggioranza di fare proposte scelte e ce l'ha l'opposizione giustamente di criticare queste scelte e di fare controproposte la sfiducia costruttiva è un concetto che mi trovo totalmente concorde peccato che anche chi l'ha enunciato non l'ha applicato questa sera perché adesso io ho preso nota ce ne sono tantissimi di esempi però criticate il fatto che il quartiere del Restellone subisce un fortissimo disagio per il cantiere della metropolitana siamo d'accordo cosa avreste fatto di meglio c'è una responsabilità dell'amministrazione comunale in questo qual è un investimento che è stato fatto in un paese fermo c'è un investimento nel quale il comune di Sesto contribuisce questo investimento ha un intoppo il comune di Sesto mette in campo delle risorse anticipandole rispetto al normale per poter sbloccare la situazione questo è lo stato di fatto cosa proponete voi diverso poi la multa del CORE non esiste nessuna multa del CORE il CORE parrebbe aver percepito degli incentivi in debiti nel caso alla fine di tutto l'iter procedurale burocratico amministrativo di giudizio e quant'altro si arriva a decidere che era effettivamente in debito verrà restituita la somma che precedentemente era stata data al CORE nessuna multa c'è qualche cosa che aveste fatto voi di diverso c'è qualche responsabilità dell'amministrazione comunale in questo non abbiamo sentito il consorzio dei trasporti pubblici che ci costa tanto è vero è stato chiuso da questa amministrazione è in liquidazione c'è qualche responsabilità c'è qualcosa che si può fare di diverso da quello che già viene fatto proponetelo non abbiamo sentito nessuna proposta avete solo denunciato queste cose fino ad arrivare al problema dei ladri che ovviamente siamo tutti d'accordo che ci danno fastidio i ladri però ci dobbiamo mettere d'accordo di cosa vogliamo fare proponete qualcosa fino ad arrivare all'Aler che dà delle case a dei privati e che non hanno ancora pagato l'Aler non è l'amministrazione comunale l'amministrazione comunale può fare qualcosa ha delle responsabilità ecco tutto questo per dire il ruolo giochiamoci fino in fondo ognuno per il ruolo che ha però facciamo delle proposte concrete allora vengo alla mia parte perché non mi esimo dal mio compito secondo me per noi è necessario maturare scelte coraggiose condivise con i cittadini radicali e strutturali imposte dalla crescente esiguità di risorse al fine di garantire e migliorare i servizi in risposta ai bisogni reali delle persone è necessario innanzitutto fare delle scelte non è corretto operare tagli lineari non è sufficiente anche se necessario ridurre gli sprechi ogni scelta che va fatta comporta per conto una rinuncia magari anche a qualcosa di buono di giusto di importante che deve essere sacrificato nel perseguire un progetto un disegno di bene per la città ma ripeto è necessario scegliere alcune spese seppur virtuose non ce le possiamo più permettere tutto può e deve essere messo in discussione avendo come riferimento unico il bene dei cittadini e non altro ad esempio è necessario un'analisi delle modalità di offerta dei servizi delle modalità organizzative della loro erogazione questo al fine di tutelare il cittadino garantendo la sostenibilità necessaria al mantenimento in essere dei servizi cioè facciamo salvi gli scopi sociali che riteniamo importanti modifichiamo se necessario le modalità che non garantiscono la necessaria efficienza perché al contrario alla lunga ma non troppo secondo me queste inefficienze ne decreteranno la fine sarà poi necessario provvedere rapidamente in maniera pragmatica ad analizzare i bisogni confrontarli con le risposte fin qui messe in campo valutarne l'efficienza e procedere coraggiosamente ad innovare dove necessario coraggiosamente sì perché cambiando si incontrano più detrattori che sostenitori ed è anche possibile sbagliare cosa che ovviamente non succede a chi non fa nulla ma noi non possiamo più stare fermi a stare fermi sicuramente potremmo solo constatare la progressiva erosione del welfare cittadino dei servizi lo dobbiamo spiegare ai cittadini anche se la mia impressione è che la maggior parte dei cittadini lo abbia già capito è necessario procedere sulla via già tracciata e dibuoncata da questa amministrazione come ci è stato spiegato ieri occorre che il comune questo a mio avviso sia sempre più sempre meno impegnato in azioni dirette nell'erogazione di servizi soprattutto quelli non essenziali e più orientato alla sussidiarietà e al controllo dei servizi non direttamente erogati in questo non ci vedo niente di scandaloso nell'affidare a una società specializzata nel recupero crediti un'attività che ripeto è focalizzata all'evidenziare le sacche di evasione di chi vuole fare il furbo non nell'andare a vessare chi è già in difficoltà occorre valorizzare le risorse umane in un'ottica di erogazione dei servizi ai cittadini per tutti occorre responsabilità nell'innovare è necessario che ciascuno si faccia carico della sua parte con il livello di responsabilità che gli compete con le capacità e competenze che può mettere in campo per il bene comune senza paura di sbagliare perché con il senno di poi tutto si poteva fare meglio ma nell'intraprendere un cambiamento il meglio è nemico del bene questa giunta a mio avviso ha dimostrato di avere coraggio nelle scelte che ha fatto la parte mia l'esortazione a proseguire e la garanzia di un mio contributo nella discussione sulle scelte è ancora da fare da ultimo una nota che trovo estremamente positiva secondo me è ottima l'iniziativa di avvalersi dei lavoratori socialmente utili fatta da questa amministrazione recentemente è necessario infatti che tutte le potenzialità presenti in città vengano attivate niente vada sprecato non solo in termini di risorse finanziarie ma anche in termini di competenze capacità di lavoro che contribuiscono all'inalzamento del livello di benessere collettivo anziché essere sprecate nell'attività forzata il tutto tra l'altro con un beneficio reciproco grazie grazie al consigliere Premolata ha chiesto la parola la consigliera Pastorino nel facoltà prego buonasera a tutti allora io vorrei tornare un attimino alla relazione di ieri fatta dall'assessore Montrasio ci sono dei punti che abbiamo condiviso un percorso che comunque abbiamo condiviso anche in commissione mi viene da pensare mi viene da dire l'attenzione ai bisogni questo è un tema importantissimo faccio parte della terza commissione abbiamo qui anche il presidente della commissione Gioconda Pietra che si è sempre battuta su questo tema e quindi rivolgere veramente l'attenzione ai minori rivolgere l'attenzione al discorso della disabilità lo trovo realmente importante insomma una priorità da condividere è chiaro che potenziare i servizi è importante quindi abbiamo visto anche il discorso legato al trasporto e su questo insomma siamo intervenuti in modo in modo coeso anche con l'assessore Perico detto questo vorrei tornare sul tema magari dello sport allora abbiamo parlato prima di di argomenti importanti e sinceramente è vero che tanti anni che continuiamo a ripetere un po' le stesse cose il discorso della piscina Carmel Longo lo riproponiamo insomma di anno in anno però penso che questo possa essere veramente l'anno importante per poter arrivare a una conclusione nel senso che anche nel programma del sindaco era anche questa una priorità insomma ci siamo resi conto che non tanto un centro natatorio ma proprio una struttura che possa ospitare anche voglio dire le persone che nel mese di agosto o di luglio o nei mesi più caldi non è il caso di quest'anno chiaramente abbiano difficoltà ad andare anche in vacanza eccetera è chiaro che una piscina rappresenta un discorso legato ad un'estate in città potrebbe essere il nostro idroscalo quindi sicuramente con le dovute precauzioni nel senso che comunque è chiaro che le piscine scoperte sono sempre un po' un'incognita legata al tempo e quindi abbiamo visto anche Milano Sport ho visto dei dati legati al danno che hanno avuto così come la nostra piscina comunale insomma dato proprio dal fatto che insomma essendo stato così piovoso questo mese di agosto oggettivamente è stata molto poco utilizzata quindi l'idea comunque di un centro con una copertura che si possa utilizzare anche nel periodo invernale che si possa utilizzare anche nel periodo estivo chiaramente con un tempo non dei migliori potrebbe essere una soluzione ma proprio per i cittadini se stesi al di là adesso di un discorso legato alle associazioni che magari mi vedono in prima persona che talvolta insomma spendo parole per varie società sportive però proprio secondo me invece è proprio un servizio che si può dare tranquillamente ai nostri cittadini è chiaro che queste nuove gestioni sono delle gestioni che vanno un attimino studiate nel senso che non basta che una persona si presenti il miglior offerente e dica vabbè io posso far questo faccio tutto io eccetera poi l'ingresso in piscina sarà di 30 euro e allora lì vabbè certo tutto il discorso che ho fatto in precedenza viene a cadere quindi sarà compito dell'amministrazione nostro e voglio dire anche della minoranza proporre delle soluzioni che possono essere interessanti quindi chiaro ci vuole una politica comunque sportiva che vada in modo intelligente a riequilibrare un po' questo discorso fra privato e chiaramente associazioni e chiaramente comune il comune di Sesto si è sempre dimostrato estremamente sensibile al discorso legato allo sport non solo come attività diciamo agonistica quindi per avere poi il beneficio di di fregiarsi di premi di dei titoli dei grandi campioni ma anche proprio è sensibile all'attività motoria in genere per il benessere psicofisico del cittadino quindi pensiamo insomma all'attività motoria per gli over 60 pensiamo all'attività per i bambini come insomma anche concedendo voglio dire l'utilizzo palestre a delle cifre che sono abbastanza sono calmerate per cui anche per le associazioni c'è la possibilità di organizzare dei corsi a dei costi modesti moderati insomma quindi molta attenzione da parte dell'amministrazione c'è sempre stata però adesso qui si apre proprio un po' il problema delle gestioni di questi centri sportivi che saranno come ho detto prima come ho detto in precedenza insomma da da monitorare anche perché poi i grandi investitori insomma non ne vedo nel senso che ho visto anche per quanto riguarda il campo di via General Cantore insomma non è che c'è stata una fila di imprenditori pronti a a sistemare questo centro sportivo e a gestirlo quindi insomma bisognerà fare un lavoro proprio per andare a a vedere insomma come rimodulare eventualmente anche certi bandi è chiaro che le utenze di questi grandi centri sportivi sono sono molto elevate io ho visto quella del campo del centro sportivo Falc di via General Cantore si parlava di utenze di 68 mila euro e poi anche per il campo di calcio adiacente di 30 mila euro annui quindi è chiaro che per il comune l'idea di dare in gestione un centro sportivo è comunque non caricarsi più di queste spese quindi è un risparmio che si può poi voglio dire riutilizzare in altre cose mi auguro anche un po' nel mondo dello sport riutilizzarlo un po' nello stesso settore però diciamo una cosa che ripeto sempre insomma ci vuole proprio anche tramite non so la consulta dello sport oppure comunque tramite le nostre commissioni cercare sempre di andare a vedere come vengono assegnate queste gestioni e con quali modalità detto questo mi auguro veramente che la piscina di Sesto possa venire sistemata perché io ho fatto un po' qualche giro in piscina e oggettivamente mi sembrava una piscina a parte la parte interna che è stata risistemata quindi le vasche che sono state risistemate e tutto e sono ancora belle nonostante insomma l'età datata visto che è del 59 però c'è tutta la parte esterna che oggettivamente sembra insomma sembra riduce da un campo un po' di battaglia ecco sullo sport direi che insomma non mi dilungo poi ci saranno ci sono tante cose perché poi è tutto che viene messo un po' in discussione il centro sportivo Manin anche qui con il bel campo da rugby bisogna anche magari cercare dei contatti con le varie federazioni ecco potrebbe essere anche un'altra strada per avere magari delle sovvenzioni dalle federazioni come può essere quella del rugby che avendo un campo voglio dire a quei livelli un campo così bello accessibile da varie zone di Milano in tempi anche abbastanza brevi direi che potrebbe essere utilizzato per delle manifestazioni sportive anche impegnative a livello nazionale ma così anche per altre cose eventualmente per quanto riguarda il discorso dell'amorosità sono d'accordo con Marco sposo pienamente insomma quello che ha detto Marco nel senso che ci sono comunque degli uffici predisposti anche all'ascolto nel senso laddove c'è la difficoltà è chiaro che la persona si rivolge a questi uffici e mi sembra corretto insomma informare che per quel mese per quel periodo c'è una difficoltà e quindi voglio dire si affronta il problema in modo trasparente e aperto però non mi sembra corretto ecco non andare incontro ai pagamenti e quasi legalizzare un qualcosa che insomma non è legale la vendita dei 50 alloggi io penso che sia che sia una cosa che si può fare nel senso il 5% del patrimonio l'abbiamo detto un po' tutti che viene poi riutilizzato cioè l'entrata che verrà da questa vendita viene riutilizzata per sistemare per mettere in sicurezza per rinfrescare per fare insomma per dare anche una va beh una dignità maggiore a certe a certe abitazioni per cui comunque trovo corretta questa cosa e poi comunque io non so non demonizzerei neanche chi chi è nelle case popolari e magari ha un reddito perché entrambi voglio dire le persone lavorano che cosa no perché comunque questo ci permette anche di sostenere delle entrate maggiori che ci permettono sempre di rinvestirle per cui comunque direi che magari 33 mila euro come diceva la consigliera Iosa sono eccessivi effettivamente per abitare in una casa popolare però voglio dire un reddito anche medio talvolta nelle discussioni viene sempre un po' condannato invece poi magari è quella fascia che permette di avere degli introiti delle entrate che che permettono qualche investimento in più ecco io ho detto un po' un po' tutto quanto mi viene da pensare poi ecco l'ultima cosa scusate sugli impianti sportivi poi si lega molto bene un discorso di qualificazione anche energetica perché sono grandi impianti dove chiaramente prima quando facevo il discorso dell'utenza supponiamo del centro sportivo Falc 68 mila euro è chiaro che voglio dire con una riqualificazione proprio energetica si potrebbe andare incontro anche voglio dire all'abbattimento di certe di certe cifre e quindi insomma oltre a un discorso di ammodernamento dei centri sportivi anche dal punto di vista energetico è chiaro che sarebbe importante arrivare a a una riqualificazione grazie grazie alla consigliera pastorino ho chiesto la parola il consigliere di step non è a facoltà prego grazie presidente è chiaro a tutti che l'ultimo bilancio comunale approvato se non non ci fosse stata diciamo la photo finish una manovra correttiva avrebbe registrato a fine dell'anno un disavanzo e questo secondo me doveva essere un primo campanello d'allarme per l'amministrazione e per la maggioranza che in maniera noto irresponsabile anziché portarci oggi un bilancio preventivo che ripensasse tutte le voci di spesa e il modo di erogazione dei servizi ovviamente a ribasso giocando su dei tagli su una vera spending review avete deciso di perpetrare in questo periodo dall'approvazione del bilancio ad oggi una lunga fase di aumenti tariffari e di imposte un'ostinazione direi quasi cieca essendo a voi stessi note le difficoltà dell'amministrazione a reperire anche solo le vecchie coperture quelle che erano previste lo scorso anno e che sono riproposte per la garanzia nell'erogazione dei servizi vi siete appellati come tutti gli anni ormai lo fate costantemente ai tagli dei trasferimenti dello Stato ai comuni che ormai risalgono al 2010 cioè non è che la spending review statale nasce oggi sono già il quinto anno il quarto anno consecutivo le varie giunte che hanno portato i bilanci qui e si sono susseguite negli anni hanno sicuramente vissuto sugli allori spendendo spensere altamente e non effettuando nessun reale taglio nessuna spending review su quello che è il bilancio comunale e nello spostamento tra il 2013 e il 2014 lo vediamo tra i trasferimenti correnti un meno 5.454.000 euro e li ritroviamo pari pari spalmati nelle entrate tributarie che se sommiamo anche i 3 milioni in meno delle entrate extra tributarie arriviamo agli 8.700.000 euro di aumento tra il 2013 e il 2014 delle entrate tributarie quasi 9 milioni sono il 19% in più rispetto allo scorso anno alla faccia di chi dice che non ci sono stati degli aumenti da parte di questa amministrazione poi vabbè entriamo anche negli altri capitoli nel senso che abbiamo l'IRPEF fermo allo 06 da anni che è l'aliquota massima era allo 02 mi ricordo nel precedente mandato che poi è stato portato allo 06 nel precedente mandato limo e massimi nazionali lattasi lattari e poi altri balzelli locali tipo le tariffe sulla piscina le rette scolastiche le rette degli asili la mensa scolastica la gestione degli orti urbani e ora anche la tassa di soggiorno sulla quale volevo una considerazione magari stasera non è stata affrontata però è più una questione ideologica perché come numeri vedo che garantisce un'entrata di 200 mila euro rispetto a quelli che sono gli importi di bilancio veramente irrisoria però anziché vedere il turista dell'expo come una risorsa in quanto genere un indotto sul territorio voi come da tradizione avete deciso di tassare il turista cioè un dato di fatto nel resto dell'Europa la tassa di soggiorno è in voga da anni una tassa che spesso è anche salata in alcuni comuni ma questa imposta offre in cambio ai turisti dei servizi reali come degli ingressi gratuiti nelle piscine dei trasporti dell'utilizzo dei mezzi di trasporti con tariffe agevolate l'ingresso magari gratuito nei musei non posso escludere a priori ovviamente che questo sia il vostro obiettivo però siccome i nuovi servizi non è che voi li inventate dalla sera alla mattina c'è da pensare che da qui all'expo Sesto San Giovanni farà pagare solo il pedaggio ai turisti senza offrire loro nulla di buono come dire l'expo è un'occasione bisogna prendere al volo quello che di buono ha i soldi dei turisti avete affermato l'assessore ieri sera lei ha affermato che il bilancio sconta il dato di una rigidità molto alta si definisce rigidità quella parte di risorse che possiamo già considerare spese al primo gennaio io comprendo assessore che non ci sono responsabilità soggettive da parte sua a riguardo ma quelle politiche forse la vostra componente partitica dovrebbe porsele non l'abbiamo fatto noi questo bilancio e non governiamo noi neanche questa città quindi quando parlava specialmente dei tagli alla spesa per il personale sedimentatasi negli ultimi anni per un importo di 600 mila euro ha dato dei numeri ha dato il numero di 756 dipendenti iniziali e 732 quelli attuali i dirigenti da 15 a 13 quindi ha fatto vedere come questa riduzione del personale porta un'uscita di 600 mila euro un'uscita inferiore di 600 mila euro alle casse comunali è vero però se andiamo a prendere diciamo gli anni lei ha preso un anno in considerazione come numero di dipendenti se andiamo a ritroso nel tempo prima che ci fossero le elezioni prima che ci fosse questo sindaco il precedente mandato allora vediamo che il numero di dipendenti era nettamente inferiore ai 756 quindi mi spiega qual è il suo concetto di sedimentazione strutturale perché veramente ho difficoltà a capirlo perché se prima delle elezioni si fa un'infornata di dipendenti per poi farci credere che negli anni si fa una spending review approfittando dei prepensionamenti e dei pensionamenti non è spending review questo è prendere in giro la gente ha anche annunciato nelle linee dell'indirizzo vincolante per tutto l'ente per costruire il bilancio preventivo del 2014 che è stato inserito il blocco delle assunzioni ho capito nel 2014 perché non lo garantisce per tutto l'arco del mandato per evitare che ci siano infornati i dipendenti all'ultimo anno e poi il giochino viene riproposto sostenendo che sia una spending review lo scorso anno sono stati messi anche a bilancio la vendita di 10 immobili di proprietà pubblica ma allo stato attuale non sono stati ancora tutti alienati ora ne mettiamo in vendita altri 50 vorrei sapere come mai le perizie per la valutazione degli immobili siano a firma del dirigente comunale e sapere poi se quel dirigente comunale ha anche preso il premio quest'anno perché l'immobile deve avere un prezzo di mercato congruo alla vendita e non un prezzo per far tornare i conti al bilancio che è diverso altrimenti non si riesce a vendere l'altro piano infine del suo intervento è quello sullo sviluppo della città cioè del contributo per uscire dalla crisi per attrarre investimenti e per creare lavoro se vuole ne parliamo parliamo delle pompe gabbionete delle acamparie vediamo come avete attratto lavoro in questa città va bene quello che vedo sono grosse aziende che hanno abbandonato in questi anni la città e speculazioni edilizie sui loro terreni forse il concetto di volano dell'economia locale che noi abbiamo è molto diverso dal vostro per noi lo fanno le società che producono per voi quelle del mattone concludo convinto più che mai che un bilancio basato su tasse e di lapidazione del patrimonio pubblico immobiliare per colmare le mancate risorse trasferite dallo Stato si è responsabile e vi invito a programmare interventi immediati e strutturali per la riduzione della spesa e della pressione fiscale io ho sentito questa sera ringraziamenti a questo e quel dirigente forse come ha detto la consigliera Landucci sarebbe più sensato ringraziare i nostri cittadini che con lo sforzo nel pagare le tasse ci consentono e vi consentono di far quadrare i vostri conti grazie grazie consigliere Di Stefano ha chiesto la parola il consigliere Foggetta prego risulta ok grazie mille allora quello che voteremo domani sera è un bilancio in equilibrio precario è un bilancio in equilibrio precario non per incompetenza per demerito o per chissà che di chi lo ha disegnato ma per altro che lo si voglia o meno è un è un bilancio che viene disegnato che si costruisce sulla precarietà sull'incertezza e sulla terra che manca sotto i piedi norme che cambiano di continuo e che non lasciano a chi deve disegnare questo bilancio la giusta stabilità normativa trasferimenti statali sempre più esigui è vero che è da 4 anni questa cosa ma ogni anno ci sono tagli ulteriori e limiti di tempo che fluttano in avanti e indietro ieri si parlava di questo nella relazione l'assessora Montrasio parlava di questo di questa previsione di bilancio usando il il tempo passato invece che il futuro imposte che cambiano la propria natura e diventano qualcos'altro e un perenne divenire che è ai limiti dello schizofrenico mi si permette di dire anche governi centrali che so che continuano nella a mantenere la mentalità per cui questo ente gli enti comunali i comuni devono essere autosufficienti 80 euro che diventano la versione 2.0 delle vecchie paia di scarpe regalate poco prima delle elezioni sia chiaro questi 80 euro sono stati per molti e lo sono e lo saranno una manna dal cielo visto che prima si usavano si usavano metafore bibliche però se poi si costringono i comuni a tagliare i servizi questi 80 euro sono presto sono presto spesi in questo contesto si crea il si crea la previsione di bilancio si costruisce questa previsione di bilancio in questo contesto lavorano la dottoressa Fiore la dottoressa Orsetti e tutti gli uffici della giunta in che modo lo fanno lo fanno utilizzando quella che è l'ultima carta lasciata in mano a loro che è il contributo dei cittadini l'ultima carta lasciata in mano a loro non tanto per scelta quanto per costrizione questo lo diceva ieri sera la consigliera Franciosi ma lo diceva ieri sera anche l'assessora Montraso non nascondendosi gran parte della copertura di questo bilancio è raccolta dalle imposte comunali nessuno qui si nasconde dietro cose che non sono i cittadini in questo periodo sono chiamati a un grande sacrificio e sono chiamati anche ad essere partecipi a questa lotta che continuiamo a portare avanti per mantenere per portare avanti la sopravvivenza di questi enti dei comuni e dei servizi che noi ci ostiniamo a credere i cittadini si meritino anche in questo periodo di crisi dall'altra parte però in questa previsione di bilancio si diceva anche ieri si moltiplicano aumentano diventano sempre maggiori strade differenti per fare in modo che i cittadini possano spendere un euro in meno strade differenti che da una parte evitano cercano dei risparmi cercano un maggiore risparmio mi viene in mente il patto regionale verticale e altre scamotage che portano il patto di stabilità da 7 milioni a poco meno di 2 milioni se non sbaglio dall'altra parte per fare entrare fondi ad hoc tramite bandi come quelli della fondazione Cariplo su questo ieri sera la stessa la stessa assessora Montrasio diceva che è una pecca del comune è quella di non aver ancora sviluppato la questione per quanto riguarda i finanziamenti europei ma mi pare che ieri sera ci sia stato l'impegno a implementare e migliorare le competenze in questo campo in questa previsione di bilancio si parla di lotta all'evasione fiscale l'evasione fiscale c'è e continua a esistere e continuerà ad esistere ancora per un bel po' per quanto riguarda l'evasione fiscale questa sera come in tanti altri casi mi permetto di dire che è stato un cavallo di battaglia dei partiti che oggi fanno parte della federazione alla sinistra anche nelle precedenti consigliature è qualcosa che ha portato dei risultati anche nel precedente bilancio e siamo soddisfatti che sia messo ad organico per quanto riguarda questo periodo inizialmente avevamo avuto anche noi qualche titubanza rispetto all'agenzia esterna quando ci sono stati dati maggiori risposte rispetto a chi questa società possa essere e a quali possano essere teoricamente gli oneri per l'amministrazione oggi possiamo tranquillamente dire che il gioco valga la candela e di sicuro forse ci arriverà anche un grazie da parte degli uffici un punto scottante per quanto riguarda questa previsione di bilancio è di sicuro quel piano di vendita dei 50 appartamenti pubblici non a caso ne hanno parlato quasi tutti negli interventi fatti fino ad ora noi siamo fermamente convinti siamo fermamente contro la vendita e la svendita del patrimonio pubblico l'abbiamo detto in passato l'abbiamo detto sulle farmacie l'abbiamo detto sul campetto in via 20 settembre qual è la differenza in questo momento la differenza in questo momento è che quei 50 appartamenti non sono al momento sono lontani al momento dall'essere rimessi in circolo sono ben lontani dall'essere rimessi in circolo e purtroppo come diceva prima il consigliere De Noia a causa della legge regionale della terribile legge regionale che noi in Lombardia ci portiamo appresso difficilmente lo saranno per ancora molto tempo la loro vendita quindi potrebbe voler dire potrebbe portare maggiori maggiore valore maggiori vantaggi scusatemi alla città in che modo sapendo che questi i fondi che entrano dalla loro vendita la vendita di questi 50 alloggi verrà reimmesso all'interno proprio su questo stesso patrimonio di case che noi continuiamo a mantenere tutto questo nell'ottica di quello che dicevamo nel comunicato di luglio del tentativo di mantenere a fine consigliatura il numero di alloggi che abbiamo ereditato all'inizio di questa consigliatura un paio un pochino poche risposte a quanto detto fino adesso consigliere Titta Ferrante io dico Alstom nell'area Volcano io dico il progetto del distretto dell'energia e dico città della salute che non porterà direttamente lavoro ma con tutti i servizi pubblici e privati che gli saranno collegati porterà anche questo questa è la risposta a quello che diceva è la prima parte della risposta a quello che diceva la sindaco appena instaurata nel quando diceva lavoro 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 consigliere consigliere laiosa e consigliere la franciosi igiene urbana nessuno qui lo dicevo prima si nasconde dietro un dito non siamo la città più pulita d'Italia siamo ben lontani dall'estero nessuno ha mai detto il contrario credo di sicuro io sono sicuro e aspetto risposte da qui a poco anche in questo campo per quanto riguarda il concorso di idee per le deiezioni contro le deiezioni di cani lasciate in giro per i marciapiedi da padroni non troppo civili è un piccolo passo in questa direzione continuiamo su questa strada consigliere Randucci ultime cose se il 3,5 si chiama equità sociale quel principio per cui se il 3,5 ci avesse dato l'opportunità di aiutare maggiormente le fasce più in difficoltà forse avremmo dovuto anche pensare di introdurlo e ultima cosa lo diciamo ai cittadini che cos'è la crisi e perché in Italia la crisi è un po' più forte che altrove perché a partire dal 2009 si sono susseguiti una serie di governi che non hanno avuto pulatezza in particolare con gli enti locali una serie di governi che se non sbaglio lei in gran parte ha anche sostenuto ultima cosa chiudo questo mio intervento ritornando alla relazione di ieri sera dell'assessora consci dei sempre minori trasferimenti statali il comune cerca di risparmiare si parlava ieri di un risparmio dell'anno scorso di oltre 600 mila euro e di una previsione di risparmio per quest'anno di altrettanti più di 600 mila euro in che modo come attraverso il blocco degli straordinari attraverso il dimezzamento del fondo di risultato dei dirigenti scusatemi che non dimostrano responsabilità ma confermano il loro senso di responsabilità nel caso in cui ce ne fosse stata necessità e blocco delle assunzioni è terribile doversi vantare del blocco delle assunzioni in un periodo come questo però è una di quelle manovre che servono per rispondere a quella poca occulatezza di cui parlavo prima però sesto risponde anche in un altro modo che secondo me va valorizzato e già stato fatto da qualcuno e io ci tengo a farlo di nuovo risponde impiegando cinque persone come lavoratori socialmente utili non è una scelta di comodo come si potrebbe pensare non è una scelta di facciata è un un'iniezione di fiducia a chi questa fiducia l'ha persa a chi questa la crisi la fiducia in se stessi l'ha tolta infatti ci tengo a ieri sera l'assessora ha citato un virgolettato io non mi mi scuso se vado a ripetere ma ci tengo a citarlo anch'io qualcuno finalmente ha bisogno di noi è stata una dichiarazione di uno di questi cinque lavoratori questo è il bilancio che andiamo a votare e noi ci sentiamo di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato che hanno disegnato e che hanno costruito questa previsione di bilancio grazie grazie consigliere Foggetta mi sono spariti dal video le prenotazioni della consigliere Antonioli e del consigliere Teormino quindi inizia la consigliere Antonioli però vi rammento vi ricordo che avete 16 minuti in due vi rimangono 16 minuti prego consigliera chi vuole parlare consigliere Antonioli Teormino allora cerco di essere breve così lascio spazio ad Anna Maria sì io ho bisogno di chiarire alcune idee la prima è questa cioè che cosa deve fare il comune deve prevenire il gioco ad azzardo deve consentire anzi impedire alle persone di fumare sostenere coloro che si separano e quindi vivono una situazione di fragilità blindare le aziende che volontariamente se ne vogliono andare perché magari il suolo di Nova Milanese se non ricordo male costa meno rispetto a quello di Sesto preoccuparsi del tavolo del commercio sicuramente preoccuparsi delle aree falche che ricordo appartengono a un privato e se non ricordo male il comune ha ceduto la sua come dire quello che possedeva la regione affinché si potesse finalmente costruire questa benedetta città della salute deve poi inseguire i ladri acrobati perché è compito del comune anche come dire arrestarli immediatamente così pure andare a casa delle signore che ereditano il fucile del marito che purtroppo scompare e quindi verificare se c'è il portodarmi ora secondo me dobbiamo fare un po' di chiarezza scusate però visto l'ora cerchiamo di sollevarci un po' tutti perché è stata una serata lunga allora il comune deve forse occuparsi delle persone che stanno peggio non è un'azienda quindi non deve fare profitti questa è la grande differenza io ho apprezzato moltissimo l'intervento di Alessandra perché imparo sempre molto non ho condiviso la premessa perché è diverso parlare di un'azienda rispetto ad un comune il comune ha una finalità quella di governare una comunità cioè un gruppo di persone ok cercando di andare incontro a quelli che sono più in difficoltà nel periodo peggiore della loro vita di solito insomma la comunità a quello serve soprattutto una comunità civile andiamo ai fatti molto velocemente del ritardo del bilancio si è già detto quindi io non sto a ripeterlo lo sintetizzo così approvare in ritardo un bilancio significa essere nell'impossibilità di decidere il futuro che è la cosa peggiore che si può fare ma tanto è e non siamo gli unici siamo in buona compagnia non è consolante ma così è a questo punto il comune si è trovato con un ammanco di 10 milioni adesso vado a sparne con le cifre perché magari ne sbaglio qualcuna correggetemi e doveva come dire risolvere questo problema perché di questo si trattava un ammanco dovuto a questi benedetti mancati trasferimenti poi di fronte alla necessità comunque di fare degli investimenti perché se no siamo tutti fermi siamo tutti immobili e l'abbiamo detto di fronte anche alla necessità di mantenere i servizi magari di riorganizzarli in maniera che costassero anche un pochino meno quindi di revisione degli appalti costo dei servizi e quant'altro di strade non ce n'erano moltissime e questo l'avete detto anche voi perché poi francamente di proposte come diceva Marco anch'io non ne ho sentite molte allora il comune cosa ha fatto approva la Tasi che è la Tassa sui servizi indivisibili non l'ha approvata con facilità io ricordo un consiglio pesantissimo dove tutti abbiamo messo la cenere sul capo e quant'altro perché non è piaciuto a nessuno approvare questa benedetta Tasi e come dire è stata approvata quindi i nostri cittadini per nostra responsabilità perché si è trattato di una responsabilità si sono presi questa bella scoppola però a seguito del ricordo per il fatto che mancavano tutti questi soldi però nello stesso tempo non è stata aumentata l'IRPEF che è rimasta allo 0,6 con esclusione dei redditi fino inferiori ai 18.000 euro così come non è stata aumentata l'IMU che è stata confermata con lo 0,76 per gli esercizi commerciali e poca cosa ne siamo consapevoli però questa cosa è stata fatta così come non è stata aumentata la Tosa appena eppure la tassa sulla pubblicità queste altre tasse sono rimaste fermi a fronte di un aumento che c'è stato e nessuno penso l'abbia mai nascosto passiamo alla Tari tassa su rifiuti e qui lo scoppolone arrivava davvero se non che c'è stato tutto un giro di conteggi e straconteggi per cui il Comune ha cercato di ridurre il più possibile la bastonata che poteva arrivare ai cittadini con due criteri li semplifico mi scusi dottoressa Fiori abbia pazienza perché sono due uno è la divisione dell'importo totale 45 sulle utenze domestiche e 55 su quelle non domestiche quindi il criterio va secondo quello quello che diceva la consigliera Franca Landucci non mi veniva il cognome mi scusi no eccoci quindi c'è stata una divisione iniziale che cercava di come dire di far pagare coloro che producevano di più l'altra mitigazione è avvenuta grazie ai coefficienti con cui è stata moltiplicata la quota legata ai metri quadri e quella al numero degli occupanti se non fossero stati introdotti queste formule mitigatorie non so se si dica ma il concetto mi sembra chiaro le famiglie numerose avrebbero pagato magari e abitavano in un appartamento piccolo avrebbero pagato cifre incomprensibili si è tentato per quello che era fattibile di ricreare una sorta di equilibrio con la Tarsu più di questo i conteggi ne abbiamo visti 50.000 non era possibile fare in commissione li abbiamo visti perché c'erano 52.000 simulazioni quindi quello che era in potere nel potere del comune è stato fatto veniamo alla diminuzione dei costi personale è già stato detto mai stato fatto in questo comune io lo vedo come un primo passo come un atto di coraggio dopodiché a nessuno fa piacere togliere i soldi a nessuno tantomeno non assumere così pure la riduzione del come dire lo sconto riguarda i capitoli degli assessorati tassa sugli alberghi sul giorno ecco ma io dico Sesto non ha niente da offrire benissimo ha la metropolitana tre fermate e una stazione chi non vuole venire a Sesto signore che vada a Cinisello e se la faccia a piedi voglio dire insomma l'Expo è a Milano non è a Sesto speriamo magari ci fosse però dà servizi che altre città intorno non le dà forse le dà Cologno perché è sulla linea verde ma altre città non li ha Sesto voglio dire è importante strategicamente per questo motivo quindi mi sembra ovvio che possa mettere questa tassa di soggiorno l'evasione fiscale non ne parliamo più perché l'abbiamo detto tutto dismissione degli immobili per il conteggio degli immobili io ricordo che il valore è un pochino più basso perché c'è tutta una normativa regionale eccetera eccetera che prevede tutta una serie di sponti per chi abita già in questi immobili quindi il dirigente perché queste contestazioni sono già state fatte in commissione ci ha spiegato legge alla mano che c'è uno sconto di una percentuale la rava la fava appunto perché queste persone sono già dentro e quindi c'è anche tutta una procedura di prelazione e via discorrendo quindi anche questo dubbio insomma è stato è stato eliminato l'ultima cosa riguarda invece questo nuovo modo di affrontare il bilancio che ha come finalità secondo me delle finalità molto buone quelle di rendere i bilanci dei comuni più omogenei e confrontabili per cui finora abbiamo avuto bilanci comunali completamente diversi dove non si capiva niente cioè non si poteva confrontare niente invece questa la sperimentazione di questo nuovo sistema contabile di cui non capiremo nulla secondo me per i prossimi due anni però confidiamo di riuscirci prima di concludere il nostro mandato perché sembra essere molto difficile ci permetterà poi di avere anche un maggiore controllo soprattutto dei residui che sono un po' la bestia nera di tutti questi benedetti bilanci ora io dico non è un bilancio voglio dire che stravolge l'assetto del bilancio precedente questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti però ci sono alcuni punti fermi alcuni punti di non ritorno secondo me che possono con la buona volontà di tutti indicare delle strategie future ora io dico sta a noi prenderne atto e proseguire l'ultima scusate chiedo scusa l'ultima indicazione sulla commissione pari opportunità ma questo lo faccio per dovere non penso che le donne oggi abbiano i diritti parlo in ambito lavorativo e quant'altro uguali a quelli degli uomini mi spiace basta prendere una impiegata qualsiasi di qualsiasi azienda privata senza parlare delle dimissioni in bianco che vengono fatte firmare ancora oggi forse non è capitato personalmente ma basta ascoltare i racconti di tante donne forse nel pubblico capita un po' meno ma vi assicuro che nel privato se uno poi è stato fortunato per carità ne siamo tutti lieti però non è poi così che va che va il mondo l'ultima cosa e mi taccio per sempre molti dipendenti statali non arrivano a 1500 euro al mese ragazzi basta farsi un giro in tanti uffici c'è tanta gente ma insomma chiederemo magari a qualche impiegato che non è di alto livello lo stipendio e faremo anche questa scoperta grazie grazie alla consigliere Teormino se per lei per lei nessuno consigliere Landuccio rimangono rimangono ancora sei minuti se vuole intervenire sei minuti vabbè è la sua facoltà è la facoltà sua ha chiesto la parola per sei minuti la consigliere la prega penso che non parlerò per sei minuti perché gli interventi sono stati tutti molto diciamo buoni per quanto riguarda la diciamo la maggioranza quindi tutti abbiamo toccato gli argomenti anch'io andrei a toccare gli argomenti che hanno toccato gli altri quindi posso dire solo due cose insomma innanzitutto ringrazio l'assessore Montrasio per l'ottima presentazione che ha che ha fatto ieri sera e questo passo diventa ancora più importante in merito in un periodo di crisi in un periodo di vacche magre con queste scelte penso sia stato dimostrato come l'intervento di alcune scelte politiche sia il fattore che fa la differenza come tutti sappiamo i trasferimenti dello Stato sono drasticamente calati 22 mila milioni di euro in 4 anni e così la parte della riduzione e di qualificazione della spesa deve essere predominante per non aumentare ulteriormente la pressione fiscale a questo punto dovrevo il mio intervento era anche il mio intervento si parlava di casa allora abbiamo già detto che comunque concordo anch'io sul fatto della vendita degli immobili e anche ricordando che cos'erano prima le case popolari perché le case popolari tanti anni fa quando uno entrava aveva un reddito molto basso era senza lavoro aveva delle grosse difficoltà con il fatto che poi negli anni le situazioni sono cambiate adesso dobbiamo andare a rivedere un po' il tutto le persone come ho già detto durante il consiglio comunale inerenti alla casa quando uno ha un reddito di isi di 33 mila euro bisogna andare a vedere cosa fare perché si parla di un imponibile che va dai 60 mila agli 80 mila euro quindi che cosa bisogna fare è giusto lasciare queste persone che rimangano all'interno della casa popolare oppure bisognerebbe in tutti i livelli della politica capire come compiere altre procedure fare altre scelte scelte coraggiose e necessarie per poter avere o una possibilità di aumento di case a disposizione o aumentare a chi ha questi redditi gli affitti in modo di poter usare gli introiti ricevuti per aiutare le famiglie in stato di necessità qualunque sia la scelta sarà un passo avanti rispetto alla situazione di stallo attuale che impedisce a chi ha maggior bisogno di trovare risposta alla propria richiesta trovo molto importante sottolineare la scelta di mantenimento e di miglioramento dei servizi alla persona vedi i servizi per i cittadini con handicap dove una maggiore spesa in tempi di ristrettezze che sembra un paradosso riconosce però diritti a persone particolarmente sbattaggiate prima si diceva che non si riesce a capire cioè io veramente quando fate degli interventi dove si dice bisogna lavorare sui servizi sui ribassi ma che cosa intendiamo per servizi sui ribassi togliamo tutti i servizi togliamo i servizi all'handicap togliamo il servizio agli anziani non riesco a capire la proposta che viene fatta noi abbiamo sugli asili nido manteniamo sempre una buona qualità di servizio una qualità pedagogica che oggi come anni fa è molto importante poi si può discutere di tutto si può discutere come rivedere gli asili nido i servizi però la qualità non si può giudicare e non si può lavorare sul ribasso il ribasso non porta alla qualità porta al taglio del servizio e non c'è più nulla una responsabilità di un'amministrazione comunale come diceva prima la consigliera Taormino è il servizio che viene dato alle persone alla città quindi non possiamo paragonare il comune ad un'azienda l'azienda fa gli utili il comune non può fare utili se fa utili non è in grado di poter fare utili perché quello che riceve lo mette a disposizione di chi ha bisogno a maggior ragione in un periodo così di crisi dove vengono tagliati altri servizi e non senz'altro i servizi alla persona perché i servizi alla persona in un momento di crisi vanno sempre più come posso dire potenziati prima abbiamo parlato qualcuno di noi ha detto che non c'è stato cioè abbiamo parlato di Tasi abbiamo detto che l'IRPEF non è aumentata l'IRPEF consigliera di Stefano al comune di Sesto San Giovanni è lo 0,6 il massimo è lo 0,8 quindi non è che abbiamo messo la tariffa massima altre precisazioni quando la prima la consigliera Landucci si parlava di beneficiare dei contributi i beneficiari dei contributi sono pubblicati sul sito del comune documentati per oltre 800.000 euro dai pensionati se estesi ci sono tutti i dati di controllo di gestione sui centri per i disabili quindi di spesa sociale documentata quattrino per quattrino poi ci si può essere d'accordo e non si può essere d'accordo però non possiamo dire che non è tutto chiaro quello che viene fatto nell'amministrazione comunale durante la commissione sul bilancio delle farmacie per quanto riguarda il 2013 il dottor Tranquida ha detto chiaramente che è in perdita e senza altro la perdita sarà inferiore rispetto a quello dichiarato della new diligence pertanto non si facciano speculazioni grazie deve concludere consigliere Torriano concludo va bene basta allora condivido quanto ha detto il consigliere Foggetta la consigliere Teormino per quanto riguarda pompe gabionetta ASTOM di igiene i cittadini incivili senza altro non sono causa del sindaco non è il sindaco che li porta lì dice guarda metti lì il frigorifero che così lo lasciamo lì non lo portiamo più via perché facciamo vedere che siamo tutti incivili grazie no l'ultima cosa scusi ieri sera visto che è stato detto che il PD non era pronto e ha voluto spostare gli interventi ad oggi all'unanimità sono venuta a chiedervi se pensavate di spostare gli interventi a oggi tutti quanti tutti mi avete detto di sì il PD era pronto no 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 quindi non accetto non accetto questo grazie grazie il suo intervento però questa polemica se la poteva risparmiare grazie prego ho risposto a chi ha detto che il PD non voleva questo scusi eh presidente penso che possa rispondere grazie io non l'ho sentito questo comunque va bene così va bene la seduta è tolta e ci vediamo domani sera buonanotte a tutti grazie grazie Grazie.